Buonasera a tutti e benvenuti alla prima lezione di Master OP, la lezione inaugurale. Abbiamo tanti ospiti importanti oggi, siamo in collegamento con lo staff del Rettore che ci raggiunge per un saluto a questa lezione inaugurale, abbiamo il Professor Riccardo Pagano, il Direttore di Dipartimento. Come al solito vi ricordo che potete interagire con la lezione, in questo caso con il webinar. Ah ecco, si è connesso il Rettore Bronzini, buonasera Rettore. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti per la prima lezione inaugurale di Master Europei. Abbiamo proprio il Parterre des Rois dell'Università di Bari, il magnifico il Professor Stefano Bronzini e il padrone di casa del Dipartimento Ionico, il Professor Riccardo Pagano. Vi ringrazio tantissimo per prendere parte a questa lezione inaugurale in cui inauguriamo un nuovo record di iscrizioni. Abbiamo più di 70 studenti iscritti sotto Covid, addirittura che scommettono su Master Europei un'avventura che prima facciamo online per poi andare a fare un'avventura offline e quindi in aula, nel Dipartimento Ionico, in UK, in Polonia, Dublino, Bruxelles, quando i governi ce lo permetteranno. Siamo nelle mani del Signore, ci ha portato il Covid e comunque ci ha regalato un vaccino. Siamo tutti molto fiduciosi su quello che accadrà in futuro e come noi spesso diciamo, le cose belle le scopriremo solo vivendo. Vi ricordiamo che noi siamo l'Università e quindi siamo qui per dispensarvi una conoscenza. Spesso venite da voi come se fossimo un'agenzia interinale e vi dovessimo dare il lavoro. Noi vi vogliamo dare la conoscenza e cioè la canna da pesca per pescare il pesce, cioè il lavoro. Una migliore conoscenza vi darà un migliore appeal nel mondo del lavoro e quindi un approccio ancora più efficace. Noi di Master Europei siamo oltre l'assunzione. Per noi l'assunzione è un punto di partenza anziché un punto d'arrivo, perché noi ci teniamo alle relazioni durature e alle relazioni professionali durature. E quindi dopo questa mini presentazione do subito la parola al padrone di casa dell'Università di Bari, il magnifico professor Stefano Bronzini. Vai Stefano. Grazie, sembrava il Bracobaldo Show detto con questo entusiasmo, di antica memoria, ma io invece sono molto lieto di essere con voi. Devo dire che potrò stare poco tempo perché ho in corso un consiglio di amministrazione, che ho interrotto proprio perché ci tenevo a salutare il ciuffo di Giovanni Bianco, che emerge come uno degli elementi caratterizzanti dei frequentatori di questo corso. Abbracciare ancora una volta virtualmente l'amico e il direttore del Dipartimento Ionico Riccardo Pagano, con cui ci vediamo ormai quotidianamente sugli schermi e ci vorremmo frequentare di persone, non ce la facciamo più. Molte grazie, magnifico. A te Riccardo in amicizia come sempre e proprio per questo spirito di amicizia con lo stesso tenore voglio parlare a tutti voi che siete presenti in questo master. Ha detto parole importanti Giovanni poco fa parlando della pandemia. Non avrei usato l'immagine della canna da pesca perché mi preoccupo un po' perché io lo leggo al mio pensionamento, la canna da pesca, diciamo, sulle rive del mare, diciamo, a guardare l'orizzonte. E invece utilizzo la prima parte. La pandemia ha rilevato alcuni elementi di criticità del nostro sistema. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che ha creato le criticità. Ha solo usato l'evidenziatore, caro Giovanni, e ha fatto vedere ciò di cui il nostro paese aveva bisogno. L'elenco è lunghissimo e forse è anche un po' come l'indice di Fra Cristoforo verso le colpe del passato o le manchevolezze del passato, Riccardo, diciamo così, o gli inciampi del passato. Una cosa è certa che ha messo in evidenza fra le varie cose che la conoscenza oggi è un mestiere, è una professione, è un passo fondamentale. Il futuro non si giocherà sulla applicazione, diciamo, delle caselle note, ma è la creazione attraverso la conoscenza di nuove caselle. Il mercato del lavoro sarà pienissimo nelle caselle che non hanno note e invece aprirà nuove opportunità. E credo che i nostri master, vi compreso questo diretto da Giovanni, in maniera egregia come da per suo sa fare, indica proprio questa strada. Nell'immagine che lui ha detto noi non diamo la certezza del lavoro, non siamo un'agenzia di collocamento, credo che Giovanni a questo alludesse, ma siamo un luogo di conoscenza. Ma la conoscenza è diventata un vestire, lo si vede delle vetrine che ogni giorno passano attraverso i nostri telegiornali, un fabbisogno che è cambiato completamente. Lo dice il processo di digitalizzazione, lo dice il processo di informatizzazione, ma lo dicono anche competenze che sembrano marginali a queste due parole, digitalizzazione e informatizzazione, e che sono centrali. Ad esempio, proprio tutti gli aspetti umaristici di cui Riccardo è maestro, che sicuramente porrà al centro, ma anche quelli economici, anche quelli giuridici. Pensate soltanto quanto il legislatore dovrà affrontare nel trasferimento dei processi che adesso hanno alcuni percorsi, invece nella digitalizzazione andranno ridisegnati anche dal punto di vista normativo. E allora il mio invito è a credere fortemente a quello che Giovanni, e lo ringrazio molto per avermi invitato a questa prima lezione, ha detto la conoscenza che noi diamo, io aggiungo la conoscenza che diamo, diventerà un mestiere. La parola mestiere per me è nobile Giovanni, non è una parola di basso rilievo, anzi è fondamentale. Da adesso in poi l'Occidente, l'Europa e noi dovremmo vendere conoscenza. E siccome in Italia la conoscenza universitaria si sviluppa quotidianamente intrecciando la ricerca e le scoperte della ricerca rispetto alla formazione, è la sede unica, il sistema universitario dove si può sviluppare con serietà il proprio futuro. Lo dico con estrema precisione e convincimento perché sono anche del parere che senza l'elevamento della ricerca non ci sarà mai la possibilità di un miglioramento della qualità della vita. Ecco vedete, lo dico ai nostri ascoltatori e ai nostri studenti partecipanti, abbracciandoli tutti. Per me la ricerca è miglioramento della qualità della vita ed è fatta da cose semplicissime, è fatta da mia madre che porta la busta della spesa biodegradabile. In quella mano che springe sicuramente due chili di arance e possibilmente altre cose c'è una busta che è biodegradabile e parla di un futuro migliore. Insieme a questo banalissimo esempio che vi ho fatto, quella busta è l'esito della ricerca. Come l'esito della ricerca è avere una visione sulla sostenibilità, come esito della ricerca e portare avanti le questioni ambientali che Riccardo ci ricorderà sicuramente venendo da una città in cui fa bisogno di ambiente e di purezza dell'aria, sono centrali, come è sicuramente una sanità che si intrecci con l'economia del paese e con la normativa del paese. Negli ultimi anni sono state prese norme, sono state varate norme, che salvaguardano aspetti della vita che noi avevamo trascurato Riccardo, possiamo dirlo noi che avevamo i capelli, non possiamo neanche dire i capelli bianchi, avevamo i capelli. Magnifico, magnifico, magnifico. Io volevo ricordare a tutti che quasi due anni fa tu rischiavi di diventare il coordinatore didattico a master europei per il turismo e per la traduzione. Poi è capitato che stavi il consiglio di amministrazione e quindi era incompatibile in quel momento la tua funzione. Comunque ti sentiamo un po' come il nostro coordinatore didattico ad onore, soprattutto per la lingua inglese. In ogni nostro master ci sono quasi 150 ore di inglese. Vogliamo spiegare perché è importante la conoscenza di questa lingua? Magnifico? Ci sarei arrivato approdando a un discorso che se vuoi e tu mi supporterai e mi verrai in soccorso con altri ulteriori argomenti, con un discorso che sembra fare il giro largo ma invece attraversa pienamente il problema e la questione. Oggi, quando parlo di ricerca e miglioramento della vita, non parlo della vita del territorio nel senso regionale o ancora di più limitrofo a dove si svolge l'attività. Oggi si parla di mondo. La globalizzazione che è al centro della discussione ha imposto a tutti noi, a tutti noi europei e ancor più, perché tale io mi sento, non mi sento italiano, mi sento europeo come italiano, se permettete, di mettere in discussione le nostre modalità di vita e di, se volete anche, di come convivere con gli altri. E allora uno dei problemi centrali è proprio quello degli aspetti antilinguistici. Noi ci dobbiamo abituare a ragionare in una prospettiva e dico noi come università, noi come mercato del lavoro futuro, noi come aziende private con cui abbiamo staurato ottimi rapporti proprio in questo periodo pandemico e vorrei spezzare una lancia a favore. Il sistema imprenditoriale regionale pugliese è all'avanguardia da questo punto di vista e ha partecipato con noi ai progetti di ricostruzione, ma soprattutto il nostro intento non è quello di affacciarci all'Europa, ma di sentirci Europa e per sentirci Europa dobbiamo avere un linguaggio e valori comuni. Giovanni, quando parla di 150 ore di inglese o quante lui ne ha messe nella programmazione, perché lui il vero padre di questo corso, Riccardo, dobbiamo sempre ricordarci, non certo io che l'ho incontrato e cercato di abbracciare, ma poi ho fatto altre traiettorie, Giovanni quando ha messo queste ore ha pensato non di portare i nostri studenti Europa, ma di farli sentire europei, che è una cosa e un passaggio diverso. In questo sentirci europei sicuramente il dipartimento ionico di cui Riccardo Pagano è meritatamente il suo rappresentante più autorevole essendo il direttore, ha spinto moltissimo in questa direzione europea. Io penso a quanto tu hai fatto, i tuoi colleghi, i nostri colleghi, sulla navigazione, sul problema ambientale, sul problema merceologico, sul problema didattico, sul problema pedagogico e potrei elencarne ancora tanti, ma non sarei mai così preciso come sarà il direttore. Per questo io non porto solo un saluto, ma il mio è un auspicio, è un augurlo, che si possa uscire con la pandemia, con la maturità che la pandemia ci ha fatto vedere delle cose che già c'erano, ci ha regalato le lenti per vederle meglio e adesso nessuno si potrà tirare indietro, nessuno potrà distrarsi, nessuno potrà dire che le cose non ci sono saltate, non sono state evidenziate ai nostri occhi e quindi ci tocca insieme affrontarle, forse risolverle, ma sicuramente rendere più agibili per il vostro futuro. Il futuro per me è una parola molto preziosa, forse è stata eccessivamente abusata negli ultimi tempi perché il futuro non è guardare da avanti, il futuro è già iniziato ieri, ogni generazione ha avuto un futuro e ha avuto un progetto. A noi spetta adesso di scrivere insieme attraverso questi corsi di formazione, attraverso la conoscenza, attraverso il ruolo che l'università pubblica deve recuperare in questo paese, scrivere un'idea di futuro. Io per questo mi appello a tutti voi perché insieme si regga una penna che ha un peso specifico e molto grave con cui si possa scrivere il futuro. Non cadiamo nell'errore di immaginare che i 209 miliardi o quanto arrivi dall'Europa sia un regalo. Quella è una responsabilità che tutti noi dobbiamo assumere perché vengano spesi con una prospettiva che veda un orizzonte il più ampio possibile. Io vi abbraccio tutti, chiedo scusa a Riccardo che non potrò ascoltare il suo intervento ma c'è un consiglio di amministrazione che fa parte di questo futuro come Riccardo sa bene e quindi io vi devo lasciare con un abbraccio che faccio a Giovanni, caro amico, oltre che importante punto di riferimento per noi in questa attività che guarda verso l'est ma anche verso il nord Europa perché in realtà noi europei siamo tutti fratelli e dobbiamo comprenderlo sempre di più. Grazie Giovanni per avermi atteso e grazie a tutti voi per avermi sopportato. Buon pomeriggio. Grazie magnifico, grazie veramente della tua presenza. Grazie. Grazie, magnifico, grazie di cuore. Buon consiglio di amministrazione. Grazie, arrivederci. Cominciamo a creare il nostro futuro guardando al presente e guardando in casa nostra. abbiamo visto il padrone di casa dell'Università di Bari e ora ci interfacciamo col padrone di casa del Dipartimento Ionico di Taranto. Il professor Riccardo Paganno a cui do immediatamente la parola per questa prima lezione inaugurale di Master Europei. Grazie molte Giovanni, caro saluto a tutti i partecipanti che vedo ormai numerosi e questo non può che farci piacere. Un saluto particolare proprio ai nostri studenti, ai vostri studenti del Master perché io ritengo che il futuro, come diceva il magnifico prima, il futuro è già oggi. Cioè noi non possiamo in questa fase delicatissima della nostra vita, della nostra esperienza di vita, essere nell'attesa di un qualcosa. E questo lo voglio dire ai ragazzi che frequenteranno questo Master. Il futuro è dentro di noi. Che cosa voglio dire? Voglio precisare questo concetto. Cioè noi molto spesso siamo portati ad aspettare un qualcosa. Invece non si deve aspettare, bisogna prepararlo. Il futuro si prepara, il futuro lo prepariamo noi. Cioè noi saremo quello che vogliamo essere. Allora io dico ai ragazzi, queste occasioni, come questi Master brillantemente portati avanti dall'amico Giovanni Bianco, dal collega Giovanni Bianco, bene questi Master ci danno una possibilità veramente molto importante. Cioè il fatto di essere in una dimensione sovranazionale. Cioè di far essere in questa condizione ci fa guardare da lontano. Ecco, noi molto spesso abbiamo il difetto, tutti quanti noi, di guardare il nostro piccolo orticello. Ebbene io sono convinto invece che se noi abbiamo la possibilità di guardare spazi molto più alti e molto più importanti di quelli nostri, e oggi la dimensione europea è sicuramente lo è, ebbene noi da questa visione alta, da questa visione ampia, possiamo veramente avere dei grandi insegnamenti. Guardate, noi ci troviamo, e questo possiamo non rimarcarlo, in una fase veramente molto difficile a causa di una pandemia del tutto inaspettata, no? Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che ci saremmo trovati in questa situazione. Ebbene, però la pandemia tutto sommato ci ha dato la possibilità di capire una cosa importante, quanto sia per noi decisivo far parte di un contesto molto più ampio come quello europeo. Voi immaginate se ogni singolo Stato avesse dovuto provvedere da solo a trovare il rimedio ad esempio dei vaccini. Si sarebbe scatenata una guerra, una concorrenza tra i vaccini terribile. Invece avendo questa grande casa europea, noi stiamo riuscendo a governare un processo molto difficile, che pure ha le sue criticità inevitabili, no? Lo stiamo vedendo adesso con i vaccini. Però la grande casa europea ci consente di avere perlomeno obiettivi comuni e quindi di non farci guerra continua, anche guerra commerciale tra noi. Perché voi immaginate a quanto sarebbero arrivati, sarebbe arrivato il prezzo dei vaccini se ci fosse stata una concorrenza spietata. Almeno l'Europa fa da blocco in questo modo, no? E quindi questo voglio dire ragazzi, cioè prendiamo le cose positive che questa pandemia ci sta comunque evidenziando. E uno di questi aspetti è proprio questa dimensione molto più larga rispetto alla nostra idea di Stato nazionale, che nessuno vuole mettere da parte. Però guardiamo in una prospettiva molto più ampia. E in questo disegno di prospettiva molto più ampio io inserisco anche la formazione. Ebbene, guardate, la vera carta vincente di oggi, in questo mondo così complesso, così articolato, così globalizzato, la formazione diventa strategica. Perché diventa come un passaporto che ci consente di andare un po' dappertutto a spendere le nostre capitalizzazioni. Cioè quello che noi siamo riusciti a capitalizzare, e questi master capitalizzano molto, perché prima ho chiesto a Giovanni quanti ragazzi hanno trovato una loro dimensione professionale nel breve periodo che è intercorso dai master precedenti sino ad ora. Ebbene, Giovanni mi ha dato una risposta molto soddisfacente. Cioè c'è una possibilità di lavorare in maniera diciamo anche altamente professionalizzante dopo questi master. E come diceva Giovanni, il nostro obiettivo non è il lavoro. Il lavoro è l'esito di un qualcosa che noi invece facciamo e di cui rivendichiamo la nostra titolarità, cioè la formazione. Questo, la conoscenza, il sapere, i saperi, ci danno la possibilità di formarci. Questo nostro essere formati poi ci dà la possibilità di essere presenti, lì dove si decidono poi i luoghi del lavoro, i luoghi diciamo della dimensione politica del vivere di tutti quanti noi. E allora io questo dico ai ragazzi che vedo numerosi partecipare a questo master. Non sprecate questa occasione. Date a questa occasione l'attenzione che merita, cioè capitalizzate tutto quello che sentirete, fatelo vostro, acquisitelo con uno spirito sempre critico perché è quello che poi ci fa crescere, usate la possibilità dialettica nelle lezioni, dibattete, chiedete, non vi preoccupate, cioè fate in modo che la vostra personalità possa emergere nella vostra formazione perché quello che noi riusciamo poi a mettere a frutto è in effetti la nostra, diciamo, la nostra dimensione poi prospettica umana. Ma questa dimensione prospettica umana è fatta di tante cose e tra queste cose vi è appunto la formazione, quello che dicevo prima. E allora io non mi dilungo ancora, caro Giovanni, dico solo che ti ringrazio come a nome di tutto il Dipartimento per questa possibilità che offri al Dipartimento Ionico, di questa veramente importante strategica dimensione europea della formazione che tu fai con questi master e che sicuramente hanno livelli di alta qualità e di eccellenza. Quindi io ti ringrazio ancora, sei un fiore all'occhiello per il nostro Dipartimento e noi non solo accogliamo con piacere queste attività, ma devo dirti che io ogni anno me le aspetto ormai, eh Giovanni? Quindi questo è un punto fermo del nostro Dipartimento, della programmazione del nostro Dipartimento a cui assolutamente noi non vogliamo rinunciare. Ti ringrazio e auguro a tutti buon lavoro e buone lezioni, cioè ascoltate e soprattutto fate vostro quello che riuscite ad assimilare con la vostra dimensione critica. Grazie ancora e buon lavoro. Io poi mi devo scusare Giovanni, ma devo chiederlo. Direttore, diamo una rivederci a tutti i ragazzi al nostro Dipartimento Ionico Fisico. Abbiamo calendarizzato la prima lezione il 19 marzo, se possibile, altrimenti li accoglieremo nel mese in cui il Governo ci darà il permesso. Va bene, noi saremo felici di accoglierli. Molte grazie, grazie ancora Giovanni. Ciao direttore, grazie mille e riprendiamo velocemente la scaletta perché la settimana prossima cominciamo con le ore del corso Cambridge, parecchi di voi si sono iscritti, sostituendo le ore di General English con quelli per la partecipazione al corso Cambridge e quindi il First oppure il C1. avrete quindi 72 ore didattiche da 45 minuti, 72 ore per 45 minuti fanno un totale di 3.240 minuti. La lezione pilota comincia la prossima settimana e di 60 minuti che quindi andrà scalata dai 3.240 minuti di qui sopra e a breve avrete il calendario delle lezioni quantomeno mensile delle ore Cambridge in cui sono considerate anche le ore del Certified English. In regalo per tutti la registrazione della lezione pilota, soprattutto a beneficio di coloro che si sono iscritti al corso Cambridge che hanno un livello ancora inferiore al B1 e che quindi vorrebbero decidere se rimanere a frequentare il corso Cambridge oppure rinunciare. La lezione del corso Cambridge viene tenuta dalla professoressa Anna Tomasic la prossima settimana. Laura, come è organizzato il calendario? Laura, la nostra English Amarca, è ora. Allora, come sapete ragazzi vi ho già invitati alla prima lezione del Cambridge, infatti lunedì primo febbraio alle ore 18.45 si terrà la prima lezione per la classe C1 alla quale parteciperanno appunto Valeria, Maddalena, Fabrizio, Raffaella, Matteo e Vittoria. I ragazzi sono stati già avvisati, mentre per martedì 2 febbraio alle ore 11 vi sarà la prima lezione di Certified English. Dopodiché la prima lezione di Certified English con Alessio, Valentina, Giuliano, Rocchi, Stefania e Maria. Poi alle ore 12.10 invece abbiamo la classe B2 che abbiamo chiamato First A e alla quale partecipano Giulia, Cristian, Alessia, Nicole, Anna e Piero. Mentre alle ore 16 abbiamo la classe B2 First B con Emanuele, Aldo, Giovanni e Alessandro. Vi aspettiamo. Se l'imposto è assente sarà disponibile la registrazione. Certo. E quindi andiamo avanti con Sabrina. Oggi prima lezione ufficiale di Massi Europei, quindi bisogna mettersi in regola i due pagamenti, vero Sabrina? Vero prof. Buonasera a tutti. Allora, come già sapete, questo è riferito a chi ha già ricevuto l'accredito da parte della Regione Puglia, quindi se avete ricevuto l'accredito al più presto mettetevi in pari con i pagamenti, gli altri naturalmente dovranno aspettare l'accredito della Regione. Benissimo. E ora tiriamo la volata al professor Savino Priccicali con la prima lezione di Soft Skills alias Job Mindset. Abbiamo qui due mentor ambassador, Cristiano ed Andrea, un refresh del calendario e poi l'introduzione del professor Savino Priccicali. Ciao ragazzi, sono contentissimo che siamo già a ottimo punto con le ottimizzazioni LinkedIn, adesso siamo qui ad introdurre la lezione di Savino che si svolgerà tra pochi minuti e sono qui anche per ricordarvi che il 5 febbraio e il 12 febbraio tutti quanti dovete assistere alla nostra lezione del Team Whip Jobs in cui nella prima lezione parleremo del goal setting e nella seconda lezione del 12 febbraio del CV e del resume. Queste lezioni saranno calendarizzate dalle ore 18 alle 19 e 15 e seguirà successivamente un webinar. Infatti il 5 febbraio dalle 19 e 15 ci sarà un webinar in cui noi tratteremo appunto del calendario didattico di tutti i master per quanto riguarda il primo mese di lezione. Anche dopo il 12 febbraio in seguito ai 19 e 15 ci saranno degli aggiornamenti didattici e quindi seguirà un webinar appunto. Bene Cristiano, grazie per l'introduzione al calendario. Adesso prendo la parola io, voglio ringraziare il prof, salutarvi tutti perché comunque Cristiano oggi stiamo partecipando all'inaugurazione di una nuova pagina di master europei quindi è per noi una bella occasione soprattutto anche intervenire dopo l'intervento di personalità celeberrime dell'Università di Bari come il rettore, il direttore del Dipartimento Ionico quindi adesso introduciamo un altro mast di master europei e del settore del risorso umano, il professor Savino Prencigalli, io come Cristiano siamo stati i suoi ex studenti e abbiamo ancora ben chiaro tutti gli argomenti trattati durante il corso, quindi il human resources management, la resilienza, il retention plan, talent acquisition, giusto per iniziare a familiarizzare un po' con la terminologia. Siamo di parte noi Cristiano quindi auguriamo a tutti una buona lezione e vi salutiamo, ci vediamo prossimamente negli incontri schedulati per voi. Grazie prof, un saluto a tutti. Buonasera a tutti, ciao prof. Savino, hai visto oggi che hanno tirato la volata il rettore, il direttore Dipartimento Ionico e quindi poi la cilegina sulla torta, il professor Savino Prencigalli, una delle stelle del firmamento di master europei, ex studente che è diventato il manager pur non volendo diventarlo. Grazie Giovanni come sempre per le belle parole, come hai detto oggi la responsabilità è grande perché i commenti che mi hanno preceduto mi hanno anche emozionato in parte, sono state dette delle cose bellissime e in questa lezione, tempo permettendo, ci proverò, mi spiegherò perché in questa situazione non mi vedrete stressato perché dopo un commento così autorevole, sapendo che ci sono molte persone che ci assistono e che questa è la lezione inaugurale, dovrei avere un qualche tipo di come dire forse di stress emotivo, no e questa sarà una delle tematiche che tratteremo adesso assieme ad un'altra tematica per me molto importante che funge come dire da preambolo per il vostro bellissimo percorso che farete, un percorso che io ho iniziato undici anni fa con master europei, di parole, di belle parole su questo master, ne ho sprecate, ne spreco, ne sprecherò tantissime perché mi ha dato un futuro e mi ha reso orgoglioso anche della persona che sono oggi, quindi professore posso già partire? Sì, Savino puoi già partire e attiva la tua presentazione. Certo Ok, dovrebbe essere visibile, vero? Sì, confermo Perfetto Allora ragazzi, io vi saluto nuovamente qui da Varsavia oggi, mi sarebbe tanto piaciuto dedicare un po' di tempo alla presentazione reciproca ma i numeri e le tempistiche non lo consentono e quindi, bando alle ciance, andiamo subito a costruire questo immenso palazzo che è il vostro percorso professionale come è stato già detto, fatene tesoro perché sarà un'esperienza formativa profonda per voi e per la vostra crescita professionale oggi è stata detta in particolar modo dal professor Pagano una parola che mi ha molto colpito quando ha detto fate emergere la vostra personalità e questo per me è un concetto cardine che si legherà molto bene a quello di cui tratteremo, a quello di cui parleremo oggi mi avete già sentito in parte parlare di soft skills, avete già sicuramente sentito parlare di soft skills in questo master perché sono importanti, perché io dico che sono la premessa delle nostre fondamenta perché immaginate di dover costruire un palazzo, il palazzo è la vostra carriera vi serve la conoscenza, come è stato detto dal professor Giovanni, cioè vi serve la materia prima ma vi serve anche lo stato d'animo, immaginate il lavoratore e il suo entusiasmo nel costruire questo palazzo l'efficienza dei lavoratori di comunicare per costruire questo palazzo ora viene da sé che a parità di conoscenza, a parità di competenze tecniche e pratiche le soft skills secondo me, per quella che è stata la mia esperienza in otto anni di lavoro attualmente io lavoro a Varsavia, sono un HR operational manager mi occupo di un team di 20 persone su 11 paesi per due dipartimenti risorse umane e ufficio paga e mi sono reso conto nel corso degli anni e complice anche i training che ho avuto in materia di quanto sia forse in parte sottovalutata l'importanza di avere una buona è un'ottima anzi direi padronanza delle proprie soft skills non ho qui la presunzione di dirvi o di parlare di tutte le possibili soft skills che ci sono al mondo sarei folle, quindi mi sono concentrato su due che mi sono particolarmente care perché hanno aiutato tanto la mia crescita ma ho visto anche come ha aiutato tanto la crescita dei miei colleghi qualora si riconosca come potenziarle, come utilizzarle e quindi quando il professor Pagano vi diceva fate emergere la propria personalità io mi sono subito aggrappato a quella frase perché è proprio nella nostra personalità e nella conoscenza e nel controllo dei nostri sentimenti e delle emozioni altrui che secondo me si realizza un buon 70% della nostra possibilità di crescita professionale 70% sembra un numero enorme si direbbe quasi che il resto non conti il resto è fondamentale, le conoscenze sono la base ma il saperle utilizzare, il saper utilizzare le proprie emozioni i propri strumenti comunicativi e conoscitivi e poi vedremo anche la resilienza quindi il saper riemergere da situazioni stressanti da situazioni complicate sono la base per il nostro successo e oggi più che mai con il covid e con questa pandemia la resilienza diventa, resilienza intesa come capacità di rialzarci dalle avversità o dalle situazioni negative diventa un altro cardine per questo motivo ho deciso di focalizzarmi su questi due ambiti ora il magnifico rettore ha anche detto assieme al professor Pagano di intervenire e io concordo non è e non deve essere un monologo spero diventi un dialogo quindi spero che mi interrompiate qualora lo ritenete necessario anche per contraddirmi anche per esprimere la vostra opinione in materia perché è una materia vasta ma è anche una materia che si riallaccia molto al pratico quindi è importante lo scambio di informazioni potrete imparare voi e potrò imparare certamente anch'io ora intelligenza emotiva ed empatia io ho un retaggio diciamo sono laureato in filologia quindi mi piace tanto e sempre andare anche a scardinare etimologicamente il significato di una parola e mi sono reso conto che il più delle volte ci aiuta e ci dà una grandissima mano nel comprendere come dire la funzione stessa della parola ora se vi dicessi il termine empatia cosa epoca penso che molti di voi concorderebbero nel dire che comunque è qualcosa che ha a che fare con diciamo il controllo delle emozioni e la conoscenza delle emozioni però è importante notare che etimologicamente il termine greco presenta la parola apatia patos e quindi si va ad allacciare un po' al concetto di sofferenza ma cosa significa essere empatici significa essere in un perpetuo stato di sofferenza e perché qui notate o vedete scritto che l'intelligenza emotiva e quindi l'empatia l'essere empatici è fondamentale per raggiungere importanti obiettivi professionali e migliorare le relazioni con gli altri come si collegano queste due cose posso farvi un esempio molto banale che dovrebbe già chiarire in parte quello che voglio stasera comunicarvi immaginate di essere di avere di essere un recruiter e di avere due candidati dinanzi a voi ugualmente schillati quindi i loro curriculum sono perfettamente identici dal punto di vista delle conoscenze tecniche delle conoscenze pratiche avranno entrambi un'ottima conoscenza di word di excel di powerpoint buona conoscenza della lingua richiesta dall'azienda e vi trovate nella complicata situazione di poter scegliere solo uno di questi due candidati quale di questi due candidati secondo voi verrà selezionato alla fine dal dal recruiter a parità di di conoscenza e a parità di competenza ora il recruiter come me come voi è un essere umano ed in quanto tale nell'istante stesso in cui vi avrà visto avrà attuato una serie di processi cognitivi anche in parte discriminatori e preselettivi si sarà fatto cioè un'idea di voi ed è normale quindi che anche in fase di un evento così importante come quello di un colloquio di lavoro il recruiter vi decide o meglio sceglierà sulla base delle proprie emozioni e sulla base del tipo di comunicazione che è riuscito ad interfacciare con voi donde quindi avere già una buona padronanza e un'ottima capacità di esprimere le proprie emozioni immaginate la situazione del primo candidato molto competente tecnicamente al quale viene chiesto perché hai scelto questa azienda perché è un'azienda sicura e perché è un'azienda nella quale penso di trovarmi bene rispetto al secondo candidato che invece dice perché dopo un'attenta analisi mi sono reso conto che i valori dell'azienda sono ben connessi con i miei e perché penso di potermi realizzare umanamente e professionalmente hanno più o meno detto entrambi la stessa cosa ma il secondo candidato ha come dire espresso forse in maniera più concisa e anche più forte più potente i propri sentimenti e il motivo per il quale vuole quel posto di lavoro andando quindi a come dire creare un connubio empatico con il recruiter e vi posso garantire nel 99,9% dei casi che in fase di selezione poi certo l'assessment delle skills viene dopo perché poi bisogna mostrare all'atto pratico quello che si sa fare ma nella fase di preselezione di candidatura assieme all'elaborazione di un ottimo curriculum il recruiter si baserà molto su questo tipo di affinità e se sarete persone empatiche aperte solide nelle proprie capacità di esprimersi sarete sicuramente molto più avvantaggiati rispetto agli altri candidati quindi è questo il motivo per cui vedete l'importanza per me per raggiungere importanti obiettivi professionali sin dall'inizio e poi vedremo anche come in fase aziendale lavorativa e di gruppo ancora una volta essere empatici e comunicativi vi porterà sempre ad avere ad essere uno step in alto in più rispetto ai vostri colleghi e non per forza sono nemici intendo proprio come crescita professionale sarete quasi e certamente sempre avvantaggiati ora l'intelligenza emotiva che si collega quindi all'essere empatici quando si parla di empatia bisogna misurarla è un concetto che può essere come dire misurato ci sono anche tanti test come dire che vanno a misurare il vostro la vostra cosiddetta intelligenza emotiva che si contrappone al quoziente intellettivo ora quoziente intellettivo personalità ed intelligenza emotiva sono parte di quella che noi definiamo natura quando voi dite io di natura sono così state andando qui ovviamente molto grossolanamente andando a racchiudere sostanzialmente questi tre fattori perché il quoziente intellettivo è quello che viene definito soprattutto sulla base di test logico analitici la personalità è l'abito che indossiamo sin da quando siamo nati e che è un abito ricucito e cucito come sulla base della nostra esperienza quindi immaginate appunto 30 35 36 anni di vita la personalità di un individuo ormai è ben consolidata ed è una personalità che si è consolidata come sulla base di quello che la persona ha vissuto il contesto sociale gli studi l'istruzione ricevuta l'intelligenza emotiva invece è spesso come dire un po' tralasciata nel senso che a volte non si capisce quanto sia importante e quali siano le differenze dell'intelligenza emotiva rispetto alle altre due che abbiamo appena che abbiamo appena menzionato sono elementi differenti ma assieme concorrono a creare la nostra la nostra unicità qual è di primo acchietto direi la differenza sostanziale tra intelligenza emotiva personalità e quotiente intellettivo la sostanziale differenza almeno questo è quello che sul quale tutti concordano è che personalità e quotiente intellettivo sono un po' più rigide rispetto all'intelligenza emotiva cosa significa come già detto immaginate una persona nata e cresciuta in un ambiente violento ok questa persona avrà tra virgolette imparato che per raggiungere e quando parlo di violenza non implica necessariamente violenza criminale ma anche in un ambiente molto duro molto rigido e molto severo questa persona avrà imparato ad ottenere ciò che vuole probabilmente attraverso un uso di violenza simile o proporzionale ed immaginate quando si dice spesso sentite dire spesso le persone non cambiano è perché è molto molto difficile andare a scardinare questi processi che sono appunto stati creati sulla base di anni e anni di vita il quoziente intellettivo è parimenti abbastanza complesso da modificare ora con questo non voglio dire che se non nasci Einstein certamente morirai non in quanto tale cioè non riuscirai mai ad assurgere a quei livelli però è anche vero vedete quando si dice spesso a me piace molto attingere al pratico quando si dice spesso ma io non sono portato in matematica posso provarci e riprovarci magari otterrò il risultato finale del problema ma con tempistiche molto più elevate rispetto tutti lo avremmo avuto sicuramente al collega di banco velocissimo in grado di risolvere una matrice in pochissimo tempo il quoziente intellettivo sul quoziente intellettivo si può lavorare ma è certamente abbastanza complesso richiede molta pratica e purtroppo concordo che in piccola parte sia anche innato giusto in piccola parte e quindi perché l'intelligenza emotiva diventa ancora più importante sulla base di quanto vi sto dicendo perché invece l'intelligenza emotiva può essere non poco ma anzi ampliamente sviluppata è una tecnica tra virgolette che può semplicemente crescere esponenzialmente se le diamo la giusta importanza e se le concediamo gli strumenti per potersi come dire sviluppare strumenti che sono sostanzialmente una costante e continua pratica del proprio controllo delle emozioni della comprensione delle emozioni altrui dell'utilizzo del linguaggio e di tutta un'altra serie di tecniche che vedremo in questo corso essendo un'area che può migliorare non vedo perché non farlo sulla base soprattutto di quanto vi ho detto in apertura e cioè che i vantaggi che si ottengono sono veramente molto 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 alti i criteri per determinarla come detto sono ovviamente devono essere diversi da quelli che vengono usati sicuramente avrete visto un test diciamo per la misurazione del quoziente intellettivo il quoziente emotivo ha il suo perno in questi quattro punti quindi quanto si è coscienti delle emozioni proprie altrui quanto si è capaci di controllarle e poi soprattutto di esprimerle e quanto si è in grado di avere relazioni efficienti che non è da sottovalutare e vedete come spesso sono diametricalmente opposte non è un caso che nel corso del tempo della storia si sia creata questa dicotomia questa contraddizione tra la persona con un forte quoziente intellettivo che nella maggioranza dei casi è una persona con scarse relazioni sociali è il tipico emarginato dell'aula pur essendo una persona di grande successo e la persona che invece a parità di sforzi emerge più rapidamente eppure essendo uno stereotipo abbastanza banale perché secondo me è un fondo di verità perché per quanto possiate essere abili e competenti se non sarete in grado di interfacciarvi con le persone che ci circondano perché siamo animali che vivono in società se non sarete in grado di fare emergere la vostra unicità e il motivo per il quale voi siete importanti purtroppo spesso le conoscenze tecniche e pratiche potrebbero non servire a darvi quello slancio quella come dire spinta propulsiva verso una carriera molto più grande e sono certo di quello che vi dico perché lo vedo e l'ho visto tante volte nel corso delle mie esperienze professionali in azienda dalla fase di recruiting fino alla fase di assunzione e poi di come dire integrazione della risorsa in ambito in ambito azientale parlando di emozioni e quindi parlando di empatia purtroppo ahimè non abbiamo sempre solo emozioni positive ecco l'intervento di prima per esempio mi ha causato un alzamento in positivo delle mie emozioni ma nulla vieta che io possa ricevere una telefonata fra un'ora con una brutta notizia che va diciamo a far calare la barra della positività delle mie emozioni ed è qui che arriva come dire la prima il primo test per le persone che vogliono imparare a migliorare la propria empatia non è soltanto capirla quindi riconoscere che si sta affrontando un'emozione positiva o negativa ma è imparare a controllarla a volte ci facciamo controllare dalle nostre emozioni e non ce ne rendiamo neanche conto e a volte per pigrizia diciamo mi sono arrabbiato e arregito male perché io sono fatto così non andando a determinare che in quel perché io sono fatto così stiamo limitando di fatto la innata consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi e quindi la possibilità sempre in ogni frangente in ogni dove di dire questa sarà la mia reazione e questa sarà la mia emozione con ovviamente dei limiti perché ci sono come detto situazioni che a volte possono realmente buttarci giù ed è per questo che parleremo di resilienza dopo però sostanzialmente l'intelligenza emotiva per poter essere sviluppata e ampiamente utilizzata e condurci a quel traguardo che è il dire io sono diventato sono una persona fortemente empatica va controllata in quanto emozione infatti è molto veloce è istantanea il momento in cui potreste passare da uno stato positivo ad uno negativo è in genere molto rapido è rapidissimo è intuitiva e soprattutto è molto spesso incline a dei pregiudizi cognitivi quelli che vengono chiamati bias cognitivi cioè abbiamo tutta una serie di impostazioni e dopo le vedremo che in un certo qual modo vincolano la nostra maniera di reagire ma molto spesso cioè sempre non sono imparziali e non essendo imparziali noi andiamo a modificare spesso in negativo il nostro umore per eventi che in realtà così negativi non lo sono ed è per questo che controllarla significa spesso rallentare il momento in cui riceviamo quell'emozione come cercando di guardare l'evento con un parere quanto più possibile distante e oggettivo quando vi viene spesso detto sei arrabbiato prenditi una pausa ecco ancora una volta vedete quanto l'esperienza pratica è spicciola il più delle volte quella più veritiera quella pausa serve per staccarci e capire cosa è successo cosa sta succedendo e come affrontare eventualmente quel determinato evento il il processo di cui abbiamo appena parlato questo rallentare viene definito come slowdown slowdown process è dirottamento cognitivo invece significa appunto quasi dirigere la propria la propria esperienza di ricognizione dell'evento in una maniera come dire differente quindi quella di dirottarla quasi di sabotarla ora quelli che vedete qua spero che si possano vedere nella presentazione che non siano troppo piccoli sono alcuni dei di questi bias cognitivi che noi utilizziamo su base quotidiana lo vedrete spesso senza rendercene conto cioè noi quando ci interfacciamo alla realtà che ci circonda abbiamo una serie di come dire vizi cognitivi che per carità non sono negativi ma a volte non ci pensiamo non ci soffremiamo oppure non ne abbiamo mai sentito parlare quindi ormai li adottiamo senza nemmeno saperlo ma quando si prende conoscenza che esistono si può iniziare a fare l'esercizio di dirottare di dire un attimo perché so quello che sta accadendo per esempio l'ancoraggio è uno dei più comuni che utilizziamo potrei fare l'esempio anche non lo so un esempio molto banale andate volete comprare un'auto ok un'auto usata e vedete che il primo prezzo che vi appare per quest'auto usata avete già scelto la marca è improvviso 10.000 euro magari quel prezzo è veramente un prezzo di fortuna è un prezzo molto basso solo che voi volete approfondire le vostre ricerche oppure la macchina non so c'è una truffa dietro quel prezzo perché è molto basso però dite ok questo prezzo mi interessa vediamo adesso cosa dice il resto del mercato vi posso garantire che molti di noi nell'istante in cui andassero a trovare un prezzo superiore andrebbero automaticamente a collegare il proprio giudizio con il primo prezzo visto e a dire è più caro non conviene ma magari l'altra offerta è un'offerta più vantaggiosa perché la macchina è uno stato migliore è più facile recapitarla il venditore vi sembra molto più affidabile eppure ci ancoreremo alla prima idea che ci sembra più conveniente il sistema dell'ancoraggio lo utilizziamo su tutto prendiamo quello che ci sembra più conveniente e sulla base di quello andiamo a fare un discrimine tutto ciò che viene dopo in negativo sarà un cattivo evento tutto quello che invece sembra positivo oltre quell'elemento che abbiamo preso per me è positivo ho già parlato di soldi di risparmio quindi è chiaro che assieme a quel processo a quel bias cognitivo c'è anche il costo il costo non solo inteso come remunerazione come soldi tutte le volte che vediamo la possibilità di risparmiare noi tra virgolette lo faremo nel senso risparmiare anche in termine veramente umano cioè nel senso abbiamo una innata propensione a disdire le perdite e quindi di conseguenza anche a non voler sostenere costi come vedete qua e questo tipo di processo cognitivo ci fa fare delle scelte che non sempre possono risultare delle scelte sagge o delle scelte corrette nella mia posizione come manager per esempio mai e poi mai dovrei per come dire non demanzionare o spostare una persona soltanto sulla base del fatto che mi dispiacerebbe perderla in termini di come dire di valore umano e questo è uno degli errori che viene fatto anche molto spesso ce ne sono altri qui li vedete c'è il bias di rappresentatività che penso sia il re assoluto di tutti i nostri bias cognitivi avere uno stereotipo e adottarlo e su questo possiamo spendere miliardi di parole ma non voglio farvi perdere tempo uno l'ho già menzionato prima la persona che è molto brava nell'ambito di non so test logico matematici automaticamente per noi è un outcast e una persona potrebbe essere secondo me non è una persona che ci sa veramente tanto fare in gruppo e so che questo vi risulterà molto molto banale ma è utilizzato tantissimo in qualsiasi produzione cinematografica la rappresentatività diceva proprio il principe di ogni pregiudizio che possiamo avere prendiamo uno stereotipo lo consolidiamo come termine di paragone e sulla base di quello andiamo a determinare tutto il resto ora questi pregiudizi cognitivi vanno ad intaccare perché sono importanti perché intaccano la nostra maniera di percepire l'ambiente che ci circonda e se fanno questo vanno ad intaccare la maniera con la quale reagiamo all'ambiente esterno e di conseguenza sulle nostre emozioni e qui vediamo un tipico esempio di come l'intelligenza emotiva deve essere controllata deve essere dirottata per produrre che cosa l'esito finale ragazzi che io cerco sempre di trasmettere anche al mio team e a coloro che lavorano con me è quello di essere la felicità è un termine grosso di essere sereni quando siete sereni quando siete quanto più possibile nel controllo delle vostre emozioni non fallirete sarete ancora efficienti nel lavoro sarete ancora efficienti nelle relazioni personali e professionali se sarete arrabbiati delusi e frustrati tutto cadrà e andrà a rotoli ed è per questo che è molto importante questo per esempio è un esempio vero i nomi sono diversi ma è quanto avvenuto nella mia azienda qualche tempo fa ed è quello che poi consiglio ai miei colleghi di fare il disrupting thinking cioè la capacità di come dire dirottare il primo pensiero cioè mi arrabbio perché lui ha fatto questo controllare la propria emozione e cercare un punto di vista alternativo qui abbiamo il canonico signor Mario che lavora in accounting ha un collega molto lento che è sempre in ritardo nel dargli le informazioni che gli servono questa settimana è nuovamente in ritardo nelle scadenze e questo gli causa problemi nella consegna della reportistica ora la prima reazione che il signor Mario ha avuto è stata quella di prendere il telefono e di bombardare in maniera anche abbastanza erruenta il collega ritardatario e lo ha fatto come dire veramente dall'oggi al domani come una doccia fredda questo ha comportato una risposta ancora più aggressiva dall'altra parte con una generale incomprensione un escalation che ha richiesto a me e all'altro manager di trovare un punto d'accordo vedete quanto la non applicazione di quello che viene chiamato il disrupting thinking ovvero A B C D E 5 punti ha causato praticamente ciò che ha causato la mancata applicazione di questo semplice semplicissimo principio c'è un evento attivante e sta per activating event cioè l'evento che attiva la nostra emozione in questo caso il ritardo costante e continuo del collega poi c'è il belief qui è dove inizia il bias cognitivo è in ritardo lo fa di proposito perché è sempre in ritardo quindi lo fa per irritarmi il collega in questione è balzato subito a quella conclusione questo ritardo è costante è reiterato è perpetuo quindi il collega Paolo lo fa appositamente per irritarmi conseguenze del gesto dell'evento causato da questo pregiudizio cognitivo scontro verbale con il collega per evitare di arrivare al punto C perché è lì che l'empatia entra in gioco bisogna sostituire questo pregiudizio con qualcosa di molto più utile perché se saremo arrabbiati non soltanto non risolveremo il problema ma andremo anche a causare concorderete con me un abbassamento della nostra prestazione saremo arrabbiati rovineremmo come si suol dire in gergo la giornata qual è la prima prospettiva imparziale che si potrebbe trovare in questo caso qual è una prospettiva più utile piuttosto che aggredire il collega perché non cerchiamo di capire il motivo del suo costante ritardo e se riusciremo a lavorare su quello prendendoci una pausa se siamo molto arrabbiati perché comunque la scadenza va rispettata e quant'altro vi posso garantire che il problema si risolve in 5 minuti come è stato fatto in questo caso quando dopo una serie di scontri verbali si è semplicemente compreso che il collega che doveva presentare la reportistica prima di tutto aveva avuto un'informazione diversa in calendario e secondo non aveva la minima idea di quanto il signor Mario fosse legato a quella scadenza per proseguire nel suo lavoro quindi è bastato semplicemente accettare da parte di Mario che il collega non fosse affatto lì per irretirlo non lo stesse provocando ma che realmente non aveva gli strumenti per comprendere che quel report non era un report mensile e casuale ma che fosse parte integrante del suo lavoro e il problema è stato risolto in 10 minuti ho preso questo esempio perché secondo me è lampante di come a volte nella vita ci complichiamo le emozioni per qualcosa che invece si può risolvere molto più velocemente questo perché perché il nostro modo di pensare purtroppo ragazzi non è oggettivo e mai lo sarà perché siamo umani quindi per poterlo far diventare tale dobbiamo comprendere le nostre emozioni diventare spettatori esterni prendere del tempo per digerire l'emozione che ci sta come dire dominando e soprattutto pensare a quello che vogliamo ottenere perché una reazione arrabbiata rabbiosa e scontenta non porterà a nulla di buono posso farvi un esempio molto banale quello forse più vicino a noi piuttosto che andare ad una realtà aziendale siete imposta un ragazzo vi scavalca in fila un ragazzo giovane lo vedete appunto oltrepassarvi ora io penso concorderete con me che il 99% di noi avrà o potrebbe avere una reazione negativa e dire ehi tu guarda che c'è una fila da rispettare ti prego di rispettare la fila o quant'altro non lo faremmo passare così a buon mercato di contro però se dovessimo vedere una vecchia magari che si poggia su un bastone che inavvertitamente ci supera chiuderemmo un occhio che cosa significa questo significa che banalmente come veniva detto in un simpatico cartone d'animazione Pixar non esistono in realtà propriamente eventi completamente negativi o eventi positivi ma siamo noi che decidiamo se l'evento è positivo o negativo sulla base del nostro essere del nostro diciamo pregiudizio cognitivo perché abbiamo verbalmente ripreso il ragazzo e abbiamo chiuso un occhio con l'anziana signora per una serie di pregiudizi il ragazzo sicuramente è giovane ha tempo da perdere è arrogante non comprende il rispetto delle regole della società non comprende quando magari quel ragazzo semplicemente non ci ha visto quindi anziché reagire in maniera rabbiosa gli si potrebbe semplicemente ricordare scusami ci sono prima di te e io ho visto delle tragedie in posta forse lo sapete meglio di me nella nostra amata Puglia quando all'epoca e mi è capitato e sorridevo spesso nel vedere come invece lo stesso identico evento fosse invisibile se a compiere quell'infame gesto fosse stata un'anziana o un'anziano quindi imparare anche che non siamo oggettivi e che siamo noi a determinare se quell'evento potrà o non potrà farci arrabbiare le persone che dicono no sicuramente mi arrabbierò perché questo tipo di eventi mi fanno imbestialire sono in un certo qual modo persone che stanno contenendo limitando scusate la propria capacità di controllo e come come se stessero dicendo io non sono in grado di padroneggiare le mie emozioni io sono vittima delle mie emozioni mentre ogni evento che ci circonda sfortunatamente non tutti ecco quando si parla di salute ci sono eventi che purtroppo sono quello che sono ma la maggior parte quasi tutte le notizie che ci circondano hanno un lato negativo e un lato positivo a seconda di quello che noi decidiamo decidiamo per loro quindi il nesso ed il segreto è sempre allargare la propria prospettiva quando allarghiamo i nostri orizzonti quando impariamo a diventare padroni delle nostre emozioni quando iniziamo a diventare anche in grado di comprendere ciò che gli altri stanno provando e chiuderò con l'empatia con un esempio che secondo me è veramente molto molto pertinente a riguardo allora quando raggiungeremo la cosiddetta empatia immaginate in un team di lavoro immaginate per chi di voi hanno velleità manageriali essere in grado di comunicare con gli altri capire la loro sofferenza essere in grado di supportarli essere in grado di avere una visuale imparziale oggettiva allora lì si realizzerà come detto all'inizio di questa prima parte quella bellissima impalcatura che sorreggerà poi tutta la vostra carriera professionale c'è un tema molto caro per me in rapido di empatia e con questo chiudo la nostra prima parte che è la differenza tra empathe e simpathe come viene detto in inglese in inglese simpathe non significa propriamente simpatia però è una differenza che secondo me è fondamentale che potreste utilizzare su di voi per capire già da ora qual è la vostra la vostra progressione nell'ambito di questo voglio diventare una persona più empatica e più in grado di comprendere gli altri se immaginate in un periodo come questo un vostro collega dovesse perdere il posto di lavoro ecco io in passato a me è capitato e la prima reazione che ho avuto è stata dirgli ah tranquillo e comunque almeno un lavoro ce l'avevi e gli ho anche detto dopo tanto un altro lavoro lo trovi e non ho visto nell'altra persona un miglioramento evidente sembrava quasi addirittura che lo avessi buttato ancora più a terra perché il mio amico ha poi ricordato di quanto era bello lavorare in quell'azienda di quanto fosse ingiusto per lui lasciare e lei mi sono un po' insospettito perché ho detto ma come io ti ho ti ho presentato uno scenario migliore perché sei ancora giù di morale perché non capivo quanto fosse grave però speravo sapete con qualche parola di conforto di risollevarlo e questo è quello che facciamo quasi sempre quando riceviamo da parte di una persona a noi cara cioè quando vediamo che una persona a noi cara soffre andiamo a fare il cosiddetto silver lining cioè a mettere una striscia un contorno argentato più bello ad un evento negativo non lo so la mia ragazza mi ha lasciato il mio ragazzo mi ha lasciato ne troverai un altro sei una brava persona c'è un mondo lì di partner che ti aspetta e vediamo che comunque la persona sta ancora molto male ho avuto un incidente grave avrò problemi non so se riuscirò di nuovo a giocare a tennis ah ma stai tranquillo con la tecnologia che c'è oggi figurati vedrai che ti rimetterà in sesto e la persona ancora è lì un po' giù di morale questo perché quando reagiamo quando cerchiamo di abbellire un evento con la simpatia senza usare l'empatia non andiamo in realtà a fare quello che l'empatia richiede che è condividere la sofferenza altrui e vi posso garantire che in tanti tanti casi e qui la differenza tra empatia e simpatia le persone che soffrono hanno soltanto questo vi capiterà in ambito lavorativo professionale qualcuno che magari potrebbe dirvi non riesco a fare questo lavoro e mi sento molto giù sono stressata la condivisione della sofferenza ti capisco so cosa si prova ma sappi che comunque io ti sono a fianco e ti aiuterò qualunque cosa succeda a volte in questa piccola differenza che si vede un miglioramento dell'altra persona che sa di avere una persona fidata e c'è il prezzo il dazio dell'empatia per quello vi dicevo che è una skill secondo me fondamentale imparare a prendere le sofferenze altrui significa migliorare costantemente ogni giorno anche in fase se la vogliamo mettere sull'ambito professionale manageriale perché molti dei manager che lavorano oggi non hanno questo tipo di competenza sono senior sono persone esperte tecnicamente ma non hanno mai maturato la capacità di comprendere le dinamiche e i lati positivi le gioie ma anche le sofferenze dei propri dipendenti quindi io concludo questa prima parte dicendovi che lavorare sull'empatia porta sempre e inevitabilmente a un successo Master Europea ha investito tanto e continua a investire molto sul lavoro interno ed ecco perché il professor Giovanni diceva non vendiamo solo un lavoro vendiamo conoscenza e soprattutto vendiamo la capacità di farvi capire chi siete come emergere e come realizzarvi penso non soltanto in ambito lavorativo sarebbe riduttivo nell'ambito più generale della vita che ci aspetta io chiedo agli organizzatori se è il caso di fare una piccola pausa o se devo continuare parlando del secondo del secondo punto della lezione Davino io direi di fare una cosa dinamica e cioè nel senso se i corsi ti vogliono partecipare con qualche domanda certo certo sono d'accordissimo e vi chiedo scusa se non mi sono soffermato ma le tempistiche erano un po' un po' diverse da quelle che aspettavo ok quindi come sapete potete alzare la mano spingendo il bottone o comunque potete scrivere in chat la vostra domanda la leggiamo con il prof Princigallo attendiamo qualche secondo una qualsiasi domanda oppure una curiosità oppure raccontare un'esperienza in cui avete avuto empatia o un'esperienza in cui c'è stata una mancanza di empatia al lavoro oppure all'università e che aveva fatto molto riflettere Emanuela ci dice solo complimenti con gli esempi pratici è tutto molto chiaro Ignazio ci dice che succede se il collega ritardatario è una persona poco capace? Questa è una bella domanda ed era come dire l'attendevo perché io vi ho presentato diciamo lo scenario positivo a volte purtroppo il collega ritardatario è veramente incapace e di nuovo anziché reagire in maniera aggressiva e violenta si devono seguire i cosiddetti percorsi professionali e aziendali riportare in maniera in parzella l'accaduto è attendere che il manager del collega incapace vada a valutare col collega del perché lui non sia in grado di fare il lavoro ecco tra l'altro hai posto una domanda molto carina perché anche in questo caso spesso quando un collega è deficitario andiamo direttamente a presumere a presupporre che sia incapace che non sappia fare il suo lavoro e vi posso garantire che in molte moltissime multinazionali purtroppo non è relativo all'incapacità ma alla mancanza di un adeguato sistema funzionante quando magari il suo processo di lavoro la sua reportistica e quant'altro è stata implementata era deficitaria in qualcosa e quindi il lavoratore inizia ad avere difficoltà quello che fa il buon manager diciamo di fronte a questa presunta incapacità è andare a fare la cosiddetta analisi delle root causes cioè andare a vedere alla radice i motivi che determinano la sua incapacità che può tramutarsi come scusatemi che può tradursi come lentezza nell'esecuzione difficoltà ad eseguire un determinato tipo di reportistica e assieme valutare come migliorarlo sei lento perché excel ti richiede troppo tempo implementiamo una macro sei lento perché non riesci a concentrarti su questo settore perché le tue conoscenze sono labili farai un corso di formazione quindi quando si parla di diciamo incapacità lavorativa lì le emozioni vengono meno e viene appunto in atto un procedimento di formazione del dipendente ottimo abbiamo tante altre domande quindi acceleriamo ci dice Mimmo ci scrive Mimmo salve prof Giulio non vi sento Giulio forse il microfono spento aspetta ho accesso il mio dai vai vai sono nella stessa stanza con Giovanni con il professor Bianco quindi usiamo il suo microfono quindi ci scrive Mimmo vorrei sapere se esistono degli esercizi pratici per sviluppare l'intelligenza emotiva in questo contesto di lockdown sì e li vedremo li vedremo a breve assieme perché ci sono ecco se intendi come dire esercizi per migliorare l'empatia ma in quale ambito cioè perché nel senso tu intendi come poter migliorare il nostro rapporto con gli altri ci sono forse è meglio ma se vuoi parlare alza la mano ok ecco la mano alzata di Mimmo liberiamo il microfono ciao Mimmo ah ok buonasera a tutti no volevo sapere se esistevano degli esercizi per sviluppare l'intelligenza emotiva sia dal punto di vista lavorativo che sociale ecco perché penso che le due questioni siano strettamente connesse ecco ci sono vengono organizzati dei workshop a livello aziendale che mirano a far fare degli esercizi di gruppo con il team ovviamente l'azienda non è tanto interessata a formare te personalmente come individuo perché rimane un'azienda che deve lavorare è interessata a formare la tua empatia e la tua conoscenza diciamo emotiva di te stesso nell'ambito del team quindi sovente le aziende organizzano dei workshop interni quelle che vengono chiamate appunto sessioni di team building nelle quali si fanno delle esercitazioni che servono ai dipendenti per conoscersi meglio e capire meglio come interfacciarsi l'un con l'altro anche questa è una domanda molto bella perché in ambito aziendale viene fatto nella mia azienda prima del covid il team building era normalmente organizzato una volta ogni due mesi quindi ci si incontrava e si facevano degli esercizi di gruppo come risoluzione di problemi come venivano anche utilizzati i tipici problemi di risoluzione e conflitti sai quelli in cui si presenta al dipendente una situazione e con il collega si deve diciamo cercare di risolverla e di capire quali sono i possibili sviluppi questo viene fatto soprattutto quando si vede che nel team ci possono essere delle divergenze e quindi bisogna potenziare la capacità dei membri di migliorare le proprie competenze comunicative ed empatiche quindi sì ci sono ci sei Mimmo sì ci sono grazie per la risposta grazie a te per la domanda ok ciao Mimmo ottimo diamo la presenza alle mani alzate quindi avviso Mauro che stiamo per attivare il microfono quando sei pronto Mauro puoi dirci leggerci la tua domanda sentite ciao Mauro ciao niente volevo sapere per quanto riguarda il disrupting thinking abbiamo detto che di solito la persona che non ha una forte intelligenza emotiva si ferma al punto c giusto giusto perché si ha una reazione impulsiva quindi per poter migliorare la nostra intelligenza emotiva dovremmo sostituire il punto c con il punto d corretto e il punto e invece mi sono perso questo passaggio è l'outcome event quindi è praticamente la risoluzione del conflitto è quello che tu hai ottenuto andando ad intervenire tra il punto c e il punto d quindi non lasciandoti travolgere dalle tue emozioni ma allontanandoti dall'evento rivalutando in maniera imparziale ottieni l'evento desiderato che è la risoluzione del conflitto quindi prediligere un po' la calma e capire le proprie emozioni in quel momento sempre perché la rabbia e l'impulsività purtroppo non portano quasi mai a niente di buono poi volevo sapere anche per quanto riguarda lo slow down process quello è il processo che di solito facciamo a differenza del dirottamento cognitivo non riesco a capire questa purtroppo purtroppo no nel senso che sono comunque allora questo disrupting thinking come ti dicevo è l'interruzione della come dire immediatezza delle nostre emozioni cioè tu devi essere in grado quando senti che stai per reagire subito all'evento che ti è capitato devi essere in grado come dire quasi di distruggere quel pensiero che tu hai questo collega lo fa di proposito mi è ostile quindi quella è un argomento lo slow down è semplicemente come suggerisce l'inglese il rallentare quindi quando sta ecco come dire è quasi il preambolo del disrupting thinking cioè tu non puoi prendere le distanze se non rallenti la maniera con la quale reagisci quindi è semplicemente l'opposto dell'essere impulsivo diciamo che è la premessa per poter poi usare diciamo il disrupting thinking al meglio esatto mentre di solito noi facciamo dei dirottamenti cognitivi attraverso l'ancoraggio e tutti quegli esempi lì mentre noi abbiamo siamo vittima di questi pregiudizi cognitivi il termine che viene più usato anche in ambito aziendale è spesso bias questo B-I-A-S che sta proprio per pregiudizio cognitivo noi agiamo molto spesso poi ci sono per carità persone molto più abili a controllare questo tipo di pregiudizio la maggior parte di noi li utilizza su base quotidiana perché fa parte del nostro retaggio culturale va bene chiarissimo grazie a te grazie continuiamo Savino con le domande si si continuiamo si si continuiamo continuiamo quindi io invito Matteo Aldo Anna e Roberto a leggerci le proprie domande e a parlare con noi Roberto ok ciao Roberto ciao a tutti buonasera volevo chiedere ovviamente una osservazione penso molto ingenua fatta da persona totalmente profana ma in qualche modo abituata a controllare le sue emozioni ora non c'è il rischio come ho scritto nella chat che in questo modo si crea un ambiente lavorativo molto artificioso ho scritto in chat una specie di dittatura del papà di Timmy Turner per chi conosce i fantagenitori ciao Roberto a parte che mi piace tantissimo questo paragone che hai fatto io in maniera abbastanza provocatoria potrei dirti e non stai utilizzando tu adesso un pregiudizio cognitivo cioè nel senso ti spiego quando noi andiamo a parlare di ok mi calmo ok cerco di controllare le mie emozioni stiamo già andando a presupporre che io stia snaturando la mia natura cioè che io non sia più me stesso ma che io stia diventando un essere artificiale che deve controllarsi per poter avere un buon rapporto con i suoi colleghi quello che tu dici è vero però il punto non è nemmeno più di tanto andare d'accordo con i colleghi il punto è che tu devi essere sereno quindi quando vengono fatti questi corsi io ne ho fatti tantissimi perché nella mia posizione è fondamentale non perdere mai la calma anche quando avvengono e ne avvengono di tutti i colori il punto è che tu come persona per essere efficiente in qualsiasi ambito lavorativo privato e quant'altro devi essere sereno se non applichi questo tipo di procedimento di controllo delle tue emozioni di quelle più impulsive perché poi ho detto che ci sono esempi nei quali si deve reagire una malattia o un qualche evento veramente importante se tu sei in grado di controllarti il giovamento è per te è solo tuo tu diventi sereno non come dire vai anche a livello di team ma contaminare il team con la tua rabbia con la tua impulsività quindi so che per te magari associata ad un gruppo di persone docili che non possono reagire ma il presupposto dell'empatia non è quello e anzi capire che so per il motivo per il quale quella persona è un po' arrabbiata e adesso le dirò o magari le chiederò scusa e le dirò guarda capisco perfettamente cercherò di cambiare il mio atteggiamento e viceversa però ripeto comprendo perfettamente il tuo punto di vista l'esercizio è solo quello di diventare noi non felici come ho detto perché è un po' un'utopia dire che si può essere sempre felice ma sereni la serenità e il controllo di sé portano solo al raggiungimento di tutto perché quando sei sereno puoi in tranquillità svilupparti in ambito professionale e privato non so Roberto se ho risposto alla tua domanda sì sì era una cosa che non avevo proprio tenuto in considerazione l'idea che anche anche questo mio sospetto potesse essere frutto di un bias di chiamano così bias 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 possiamo usare l'italiano pregiudizio alla fine sono pregiudizio pregiudizio ok buonasera professora buonasera a te Roberto e dammi sempre del tu ciao va bene ciao eccoci quindi invito c'è riverber ok quindi invito Matteo Aldo Ezia e Anna a leggere la propria domanda e a parlare con noi altate la mano se volete parlare Anna teniti pronta Anna il tuo microfono è attivo buonasera finalmente una ragazza questi sono temi di emozione quindi più collegati alle ragazze buonasera a tutti mi sentite forte e chiaro ah perfetto allora io avevo una domanda l'avevo scritta in chat non so se è retorica o meno comunque mi chiedevo ma l'intelligenza emotiva è sinonimo di empatia e poi ho scritto anche implementando l'intelligenza emotiva implementiamo di conseguenza l'epatia o il contrario allora è una domanda che per me ha molto senso perché forse non mi sono non mi sono anche soffermato a me non piace come dire uccidervi di definizioni però hai ragionessi e la risposta è sì cioè l'intelligenza emotiva è come dire il fattore determinante dell'empatia una persona empatica è una persona che ha una forte è una grande intelligenza emotiva così come una persona molto brava in ambito logico matematico è una persona che ha un forte quotiente intellettivo quindi se dovessimo proprio schematizzare l'empatia è la definizione persona che è in grado di interfacciarsi con gli altri comunicare e comprendere i sentimenti altrui l'intelligenza empatica è il suo valore di misurazione ok mi chiedevo oltre l'empatia però nell'intelligenza emotiva magari rientrano altre soft skills giusto? ovviamente tante per poter essere purtroppo inserite in questo corso hai ragionissima tante perché è appunto un concetto molto molto vasto se ricordi i quattro punti che ho presentato prima controllo di sé controllo delle emozioni capacità di essere parte in un gruppo ti ho già menzionato almeno 7-8 soft skills comunicazione resilienza stress management e potrei andare avanti quindi hai ragionissima nel dire che l'intelligenza emotiva poi racchiude dentro di sé una buona cioè tutte le rimanenti soft skills che sono abbastanza sono tante va bene ok grazie mille grazie a te grazie Anna quindi si può preparare Matteo con la sua domanda e invito a leggerci la propria domanda dopo Matteo buonasera buonasera professore buonasera Giulio professore la mia più era una riflessione più che altro più che una domanda spero diciamo mi possa dare delle delucidazioni in merito a questo delle conferme o meno penso che lo sviluppo proprio anche dell'intelligenza emotiva dell'empatia forse in un luogo di lavoro in un luogo di lavoro dove vige una grande gerarchia una gerarchia abbastanza solida e rigida penso che possa essere molto stimolato credo dall'empatia dello stesso titolare cioè il titolare che stimoli e dia da esempio faccia da esempio per tutti i suoi dipendenti magari in ambienti anche sottoposti a particolari stress non soltanto sostanzialmente psicofisici magari un modello da seguire risulta proprio essere quello del titolare non lo so è una riflessione che ho pensato avendo avuto modo diciamo di vivere un po' questa gerarchia più solida guarda a parte che è una bella riflessione e io ti do un messaggio positivo diventa questa persona che stai narrando la persona in grado di comprendere di capire di aiutare e di supportare e ci rivedremo da colleghi sarai manager è un messaggio che ho sempre dato all'inizio un po' scherzosamente adesso ci credo fortemente ed è per questo che stiamo parlando di empatia oggi come dici tu in questi ambienti molto gerarchizzati come quelli delle multinazionali la chiave di successo la chiave di volta non di un team di un intero dipartimento è data dall'impronta stessa che il leader dà ai suoi se il leader impronta un team sulla base dell'empatia e non sulla gerarchia e se quel leader stesso è stato scelto sulla base delle sue conoscenze come dire in ambito di controllo di sé e delle emozioni altrui quel team o quel dipartimento è destinato al successo se invece il team è gerarchizzato e basato esclusivamente sulle competenze cioè tu hai sette anni di esperienza quindi ok tu sei il senior si crea attrito tra i colleghi c'è gelosia c'è incomprensione non c'è nessun tipo di cooperazione e il team è destinato quasi sempre ai risultati magari non fallimentari ma meno proficui del team invece legato da un legame empatico perché tu aiuti più volentieri una persona che comprendi capisce e di conseguenza stimi grazie grazie professore buona continuazione a tutti continuiamo quindi si può preparare Ezia poi c'è Maddalena e Stefano per parlare invito anche Emanuela e Maria a leggerci la propria domanda ciao posso? sì vai ciao allora professore io ho fatto la domanda però dato che posso parlare forse mi posso esprimere meglio mi chiedevo le ho scritto si può dire che l'intelligenza emotiva sia in un certo senso collegato alla pazienza di ogni persona perché ripensavo all'esempio che ha fatto lei quindi in un certo senso se uno caratterialmente predisposto a determinati comportamenti come la pazienza è più facile contenere la rabbia in questo caso nel momento in cui si presenta una situazione snervante o di forte stress mentre per una persona del tutto impulsiva penso che sia davvero difficile avere un'intelligenza emotiva o perlomeno ci sia un grande lavoro da fare almeno credo è una è una una bella è una bella affermazione sai perché stavo sorridendo perché mi hai fatto pensare al sottoscritto il mio appellativo quando ero più giovane siamo pugliesi lo capite era Cerino era una persona che si infiammava per qualsiasi stupidaggine reagiva anche anche contoni abbastanza abbastanza come dire forti e oggi mi ritrovo vent'anni dopo a dover vivere in azienda in realtà aziendali eventi a volte anche pesanti perché ci sono situazioni che stravolgono la vita di dipendente il dipendente piange reagisce si arrabbia e riesco sempre a mantenermi molto molto calmo guarda ti dico la verità come dici tu è vero che le persone impulsive sono meno avvantaggiate rispetto a chi è calmo di natura ma se ce l'ho fatta io con anni e anni e anni di sforzi di pratica che ero veramente una testa calda incredibile riuscivo ad innervosirmi per tutto se ce l'ho fatta io ti posso dire che ce la può fare chiunque il segreto è sperimentare provare perché purtroppo si fanno con le esperienze queste scoperte praticare e poi vedrai da sola i vantaggi nel dire adesso basta sbotto e dico tutto quello che penso o al vado a farmi una pausa sigaretta ci rifletto ritorno quando torni dopo mezz'ora tutta la tua rabbia parte della rabbia è già andata e avrai un problema in meno il giorno dopo quindi sono d'accordo con te ma si può lavorare su quello se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque ok va bene grazie 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 a te ok quindi diamo la parola Aldo che ci ha scritto un po' di tempo fa quindi si può preparare a leggerci la domanda e poi c'è Emanuela e Maria e poi riprendiamo Sì Aldo ti sentiamo ok perfetto no più che altro mi era venuta una curiosità sentendo il professore cioè ok stiamo dando una definizione e stiamo iniziando a dare una definizione delle soft skills però io immagino durante un colloquio di lavoro com'è possibile in poco tempo fare emergere non dico tutte però la maggior parte di queste qualità perché comunque ci può stare che non abbiamo gli strumenti per riuscire a far emergere quindi non riusciamo a darci il valore giusto per essere assunti è una bella domanda allora sono certo che il master comunque affronterà forse anzi sicuramente meglio di me la tematica di assunzione come condurre un interview come preparare il proprio curriculum e quant'altro l'avete già fatto in parte io ti dico quella che è la mia esperienza perché gioco forza sono sempre anche chiamato poi a fare il colloquio finale per l'assunzione del candidato e ho fatto un esempio pratico molto molto corto se non ricordo male all'inizio della della lezione cioè fermo restando che l'interview vada preparata un pochino perché essere empatici certo ma bisogna anche essere un po' furbi quindi è chiaro che ti vai anche un po' tu mentalmente a preparare il tipo di messaggio che vuoi dare all'altro l'esempio più lampante secondo me è proprio questo se tu ti presenti ma vale in ogni ambito in cui c'è un colloquio vale anche ad un esame se tu mentre il recruiter ti fa delle domande argomenti quindi non ti limiti a rispondere alla sua domanda ti piace questo lavoro? sì perché hai scelto questa azienda è famosa cosa sai fare? quasi tutto il recruiter andrà direttamente a vedere in te con i suoi pregiudizi cognitivi ecco risposte brevi monosillabi è pigro non mi piace o banalmente mi sta simpatico perché il giudizio cognitivo di una persona solitamente si forma in meno di due minuti cioè quella persona in due minuti presupporrà di sapere i 20 25 30 anni della tua vita in due soli minuti ed ecco perché è fondamentale quando si parla di empatia e poi quella è una soft skill legata all'empatia le communication skill la capacità di comunicare in maniera efficiente lì ti giochi un buon 50% del tuo colloquio professionale quando dimostri al recruiter che sei ben altro di un semplice e anonimo lavoratore che vuole il posto di lavoro anche la battuta tra virgolette professionale io li chiamo battute e sorrisi professionali perché quando un recruiter trova una persona davanti che in maniera ripeto di nuovo professionale gli sorride o menziona o fa tralasciare il suo entusiasmo quel recruiter avrà più facilità a ricordare te perché gli avrai lasciato tra virgolette un buon ricordo che è una persona magari molto seria molto impostata per quanto professionale cioè poi dipende sempre dai suoi pregiudizi magari a lui piacciono le persone serie vabbè in quel caso si scenderebbe in una serie immensa di esempi ma ti posso garantire che agendo noi sulla base di simpatia di pregiudizio la persona che comunica meglio la persona che si esprime meglio e che trasmette maggiore sicurezza e fiducia e perché no anche simpatia è quella che normalmente lascia maggiormente il segno per quello io penso che sia importante sin dall'inizio sin dalla fase di colloquio ok grazie no 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 grazie grazie mille per la risposta grazie a te abbiamo tre domande Maddalena e Stefano che vogliono parlare come ti vuoi come vuoi procedere Savino chiedo anche a Giovanni se allora il tema della resilienza e cioè potrei provare a trattarlo con diciamo in maniera abbastanza fida non so se a questo punto dedichiamo ancora parte del tempo la restante parte sì forse continuiamo con la tua lezione parlando della resilienza e quindi dividendo gli studenti come diciamo noi a Massa Europei in resistenti e in evolventi perfetto dando la l'analogia del bruco della crisalide e della farfalla per cui il bruco resistente è quello che vuole nascere bruco e morire bruco mentre quello resiliente vede che comincia a trasformarsi e quindi dice beh vediamo che cosa succede dopo la crisalide e quindi diventa evolvento c'è un altro passettino da fare diventare farfalla e spiccare il volo ascoltiamo un po' che cosa c'è da dire sul tema e poi continuiamo con le altre domande quindi ragazzi preparate la vostra manina e dopo il secondo slot di Savino continuiamo con le domande allora io chiedo a Maddalena e Stefano di scriverci le domande che volete fare o il commento e poi le facciamo avere al prof e vi vi dà una risposta anche domani se c'è tempo per tutti quanti perché immagino che la seconda parte genera altre domande iniziamo da voi per rispondere a queste domande sulla prima parte quindi Maddalena Stefano per piacere scrivete la domanda ma è Samino va bene allora stavo pensando proprio in questo principio istante al famoso Ro che credo l'ultimo episodio quando dice quella frase nella vita non è tanto importante come vincere o perdere o qualcosa del genere è importante come ti rialzi dalle botte prese e questo è sostanzialmente in termini molto semplicistici hollywoodiani il concetto e il senso di resilienza cioè quotidianamente ci avvengono situazioni complesse stressanti vi ho detto a inizio corso o quando il professore Giulio mi hanno detto ci sarà il magnifico rettore dovrai ci sono tante persone tanti nuovi studenti pieni di energia ecco quella per me poteva essere una situazione stressante eppure credo finora non solo non sono stressato anzi ero già emotivamente molto contento di poter avere questa opportunità perché dieci anni fa probabilmente avrei perso la vita tra stress ansia oh mio dio come farò oggi no sono nato così no ho sviluppato nel tempo un alto un maggiore livello di resilienza ed è per questo che ho inserito questa seconda soft skills perché assieme a come comunichiamo visto che stiamo parlando di controllo delle emozioni se ci facciamo dominare dalle emozioni negative e andiamo giù diventerà difficile fare tutto quello che dobbiamo nella nostra vita quando ecco qua vedete where there is no struggle there is no strength se non impariamo a reggere i colpi che la vita ci dà non cresceremo non diventeremo più forti e non spiccheremo il volo come farfalle ora è diverso ripeto a me piace molto concentrarmi anche sulle definizioni non è un termine tanto 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 usato resilienza però insomma resilience in inglese non è quella che in inglese viene definita push through quindi tenacità cioè tenacity quindi andare contro saldamente tutti gli ostacoli spingerli la resilienza è più una dote tra virgolette passiva cioè è la capacità di resistere al colpo e rialzarsi quando si dice in inglese bouncing back è come appunto una di queste palle di gomma sulle quali ci si siede ci sediamo la palla ci rimanda su quindi è sempre vista come resistere al colpo e rialzarsi non è assolutamente ancora una volta una qualità innata sento sempre dire ma io sono vittima sempre di stress quando devo parlare di fronte a molte persone mi sale l'ansia non ce la faccio odio i cambiamenti peccato che dire odio i cambiamenti significa ancora una volta limitare se stessi siccome siamo la razza più intelligente credo nell'intero universo noi non ci limitiamo non è una qualità innata ed è possibile refinarla con l'esperienza tra l'altro imparare a diventare resilienti imparare a resistere alle botte che la vita ci dà costantemente significa anche essere in grado di gestire meglio le nostre energie anche in periodi molto stressanti ora quelle che sono ecco qui le vedete su due assi quelle che sono normalmente le caratteristiche più facili della resilienza per poterla diciamo misurare è a parità di stress lì dove vedete sull'asse verticale stress high low è a parità di coping skills in inglese to cope significa appunto riuscire a quasi come dire adattarsi a parità di questi due assi quando i due assi sono molto alti cioè quando si hanno delle capacità di adattamento molto alte con uno stress molto alto questo è quello che noi definiamo resilienza una persona che ha una grande resilienza è una persona che ha una fortissima capacità di adattamento alle circostanze avverse esterne e che nonostante tutto pur avendo altissimi livelli di stress riesce a mantenersi costante quindi è soprattutto vista questa soft skills in chiave di stress lo stress è un termine credo ormai di uso comune soprattutto in ambito lavorativo si parla costantemente di stress lo stress genera ansia lo stress genera panico lo stress se vi ricordate quello che vi ho detto nell'ambito dell'empatia è la nostra percezione di uno stimolo esterno che viene prima elaborato immagazzinato e che poi produce nel nostro corpo delle emozioni Charles Spielberger un attimo solo perché ok è arrivata l'icona della batteria ma adesso dovrebbe andare bene ha per primo parlato di quelli che sono gli stati d'ansia i tratti d'ansia perché vi sto parlando di ansia adesso perché normalmente è il primo outcome il primo risvolto di uno stato di stress quando siamo stressati abbiamo certamente una perdita di appetito una mancanza di appetito un generale umore negativo ma uno è forse il principe dei tratti che sviluppiamo è questo stato costante di ansia non sarò in grado il lavoro che ho avuto è difficile il compito che mi è stato dato va al di sopra delle mie capacità ora secondo Charles esistono due diciamo parametri che vanno a concorrere nella creazione di questo modello di stress da ansia cioè quando noi abbiamo un evento che definiamo per noi negativo il tuo capo di lavoro il tuo datore di lavoro ti dice da domani devi occuparti anche di questa di questo nuovo task tu non ne sei al corrente non sai bene come farlo non credi molto di essere la persona adatta immediatamente il tuo come dire corpo percepisce dell'ansia viene generata un'ansia ok il punto è che l'ansia che viene generata ha degli impatti diversi a seconda delle persone secondo questo modello cioè abbiamo delle persone che percepiscono l'ansia in maniera più o meno alta a seconda di quella che è la loro residenza quindi abbiamo due colleghi per esempio entrambi hanno lo stesso compito cioè da domani tu e tu dovrete fare questo nuovo difficilissimo task entrambi sicuramente percepiranno un po' d'ansia perché il nuovo porta sempre lo sconosciuto porta sempre l'imprevedibilità ma molto probabilmente sicuramente essendo noi tutti diversi uno sarà meno stressato dell'altro o uno sarà più stressato dell'altro ma perché se l'ansia se l'evento è uguale perché avviene ciò perché pur essendo l'evento uguale la capacità che hanno di contenere l'ansia che viene generata è diversa perché una persona ha imparato col tempo ad innalzare quello che viene definito threshold quindi ad innalzare il livello di ansia che può ricevere perché vi dico che non è innata perché di nuovo il mio lavoro mi porta e mi ha portato negli anni ad entrare costantemente in situazioni di ansia il professor Giovanni ha detto all'inizio che non volevo diventare manager e ha ragione perché anni fa i miei livelli di resilienza erano molto bassi era una persona alla quale piaceva lavorare nel proprio piccolo fare il mio profilo e quello del cane lavorare nel suo diciamo bello orticello non avere influssi esterni di ansia di stress altrui e disdicevo assolutamente l'ipotesi di poter gestire un gruppo di persone pur sapendo sì ok ho le doti ma mi crea troppa ansia eppure la vita che è imprevedibile mi ha portato a fare tutto il contrario a lavorare costantemente in situazioni di ansia generata tra l'altro non da me nemmeno perché sono i miei colleghi a volte che mi chiamano dicendomi ho questo problema aiutami lì e lì com'è possibile che oggi dopo otto anni io che ero sempre vittima di questo tipo di ansia per l'ignoto per il nuovo sia riuscito a fare questo lavoro in parte l'ho appreso anche grazie a Master Europei e da lì è iniziato tutto cioè ho imparato piano piano con le esperienze prendendo sempre le botte della vita ad innalzare automaticamente il mio livello di ansia quello che una volta mi avrebbe generato ansia per settimane cioè da domani avremo un cliente nuovo oh mio dio oggi diventa perfetto domani approntiamo un piano e vediamo di cavarcelo sarà più lavoro sicuramente ci sarà molto di più da fare ma penso che non sarà dissimile da quello avvenuto in precedenza quindi non è una tecnica innata e si può sviluppare per poterla sviluppare bisogna lavorare su questi sono alcuni secondo me dei fattori chiave che scatenano le nostre paure le nostre incertezze e ci portano diventare vittime dell'ansia e quindi ad abbassare la nostra resilienza rifiuto apprendimento comfort zone energia e positive thinking e le andremo velocemente a vedere adesso nel tempo che ci rimane il rifiuto a volte sottovalutata ma il rifiuto è spesso una delle caratteristiche che generano ansia o meglio che generano un qualche tipo di risposta negativa nel nostro nel nostro corpo per esempio venite scartati da una posizione lavorativa questo genera automaticamente dentro di voi una serie di emozioni negative mi ha scartato mi è arrivata la lettera che dice purtroppo abbiamo deciso di non proseguire con la tua candidatura e quindi automaticamente scatta tutta una serie di procedimenti che dicono forse non ero all'altezza forse le mie doti non sono abbastanza non troverò mai lavoro questa è una grande azienda nella nostra cultura tra l'altro questo tipo di rifiuto può essere anche visto come qualcosa di negativo dovrò dire ai miei genitori che mi hanno scartato che sono stato bocciato all'esame che non è andata come previsto e invece al contrario imparare ad accettare il rifiuto che non è visto come elemento di imbarazzo o debolezza ma come parte di un evento contingente della vita aumenta il nostro tasso di resilienza cioè quello che prima ti generava uno stato d'ansia negativo adesso diventa un sarà per la prossima è solo un colloquio di lavoro che non ha assortito gli effetti che doveva ma di fronte a me ho mesi e mesi per tentare altri colloqui e su questo io ho fatto anche degli esercizi nella mia azienda alcuni sono così scontati a volte che pensarci mi ha fatto anche sorridere ma sono cose che io avrei ancora difficoltà a fare oggi sulle quali sto lavorando per esempio chiedere in un negozio dove normalmente gli assistenti non sono facilmente reperibili e io ho sempre avuto questo tipo di difficoltà mi ricordo anni fa anche nel dire beh dovrei chiedere però questo prezzo non mi è chiaro ma adesso non voglio scomodare la cassiera dire beh ma questo incapace non è in grado di leggere un'etichetta oppure chiedere uno scontro mia madre regina assoluta di questa tecnica per prodotti che non sono scontati io vedo la facilità con la quale lei può benissimo dire ma questo è troppo caro per me secondo me magari un piccolo sconto io non sarei in grado di fare probabilmente per ora questo tipo di operazione perché andrebbe subito ad innescare il livello il mindset di potrà rifiutarmi e quindi io mi sentirei a disagio quindi il rifiuto è già una delle cose sulle quali imparare ad accettare il rifiuto senza conseguenze negative senza arrabbiarsi e già aumentare da solo il proprio tasso di resilienza abbiamo detto apprendimento qui c'è una frase molto bella di Michael Jordan che dice cioè vi sta dicendo che ha fatto 9000 tiri ok ha perso più di 300 partite 26 volte ha mancato il tiro che avrebbe portato la sua squadra a vincere eppure fallendo più e più volte è diventato un personaggio di successo o come viene normalmente detto non c'è mai una sconfitta o si vince o si impara il processo di apprendimento però porta spesso con sé un po' di ansia o qualche stato negativo ma perché perché ogni volta che impariamo una nuova lingua voi che adesso avete iniziato il master imparerete tante cose nuove vi interfaccerete a quattro culture europee diverse è chiaro che tutto ciò vi farà uscire dalla vostra comfort zone vi farà uscire dagli schemi mentali che avete fatto vi farà pensare e se fallisco se non ce la farò tutte queste esperienze che farete nel loro piccolo giorno dopo giorno andranno ad aumentare la vostra resilienza domani uscire dalla vostra cerchia di amici dalla lingua nota dalla nostra bellissima lingua sarà fonte magari un po' di stress di ansia dovrò usare l'inglese dovrò usare il polacco il francese tra una settimana migliorerà un po' tra due anni magari sarete fluenti in quella lingua e tutta quell'ansia che derivava dall'affrontare un percorso culturale nuovo diventerà zero e per voi non sarà mai più un problema ecco perché dico che è una skill innata a patto che la si pratichi con l'esperienza il tema della comfort zone è un altro tema molto 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 caro ed è quello per il quale io ho sempre ringraziato master europei avermi fatto uscire dalla mia comfort zone il laureato all'università della piccola città di provincia che dice voglio il mio lavoro vicino a casa mia con i miei amici i miei genitori lasciare quella comfort zone è stato molto duro e nella vostra carriera professionale dovrete lasciare la comfort zone tante 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 volte qui non stiamo parlando appunto solo del master e del futuro sicuramente grandioso che vi aspetta stiamo parlando anche a volte di lasciare persino aziende nelle quali il lavoro è diventato un po' stagnante per voi per fare un altro passo in più nella vostra carriera come diceva Giovanni prima l'obiettivo non è soltanto lavorare l'obiettivo è lavorare su di voi quando sentite di aver raggiunto il top in un determinato settore andare oltre chiedere un nuovo compito al lavoro del quale sappiamo poco o nulla fare anche ciò che ci provoca disagio vedo e sento sempre dire non sono portato per quella roba chi? io? la lingua polacca? mai e poi mai non mi piace fare quella roba perché so di non essere bravo sforzarsi di sfondare quel muro della comfort zone implica successivamente dopo dire sembrava così difficile e invece ci sono riuscito facilmente in futuro quando ti ripresenterà ti si ripresenterà quella stessa occasione o quello stesso ostacolo avrai già molti meno livelli di ansia il tema dell'energia è il cosiddetto tema del flow viene usato molto spesso anche nel basket in ambito sportivo in the zone stare nella zona essere in zona in gergo professionale normalmente viene definito flow e per quanto possa essere una cosa sottovalutata è in realtà molto 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 importante imparare per aumentare la propria questa è più è quasi come munirsi di uno scudo aggiuntivo noi siamo più produttivi e più resistenti allo stress e alle situazioni negative in alcuni punti della giornata non sempre esempio classico vi siete resi conto che quando facciamo delle cose che ci piacciono particolarmente perdiamo traccia del tempo come è possibile entriamo in quello che viene definito flow ci piace quello che stiamo facendo lo affrontiamo con caparbietà anche se è un compito molto difficile e addirittura perdiamo traccia del tempo diciamo caspita mi stavo divertendo così tanto a scrivere che non mi sono reso conto che sono passate tre ore quando invece facciamo un compito nella quale siamo con scarsa diciamo produttività energetica ci sono persone ad esempio scarsamente produttive la mattina questo è il motivo per cui io sono un garante e soprattutto cerco di promuovere la flessibilità al lavoro l'agility ne parleremo comunque poi nel corso delle lezioni risorse umane perché quando tu hai più energia eventi parimenti negativi li affronterai meglio di quando invece sarai già un po' giù sarai già con una scarsa energia e produttività durante il corso della giornata sui dipendenti normalmente si fanno questi test in alcune aziende si cerca di capire qual è la fascia produttiva maggiore perché è in quella che il dipendente dovrà fare il compito magari più complicato della settimana del mese e quant'altro poi e non mi stancherò mai di dirlo bisogna fare sport e bisogna imparare anche a programmare la propria settimana perché lo sport è il più potente antidepressivo che abbiamo al mondo in assoluto non esistono medicinali più forti dello sport ci consente di come dire affrontare veramente la giornata al massimo o di recuperare da una giornata stancante al computer o di fronte allo schermo e non bisogna mai e poi mai per quanto sia un concetto un po' aleatorio sottovalutare l'importanza per noi che ha di stare bene mentalmente e fisicamente quindi di avere una buona energia quando ho detto di stare bene mentalmente il cosiddetto pensiero positivo il positive thinking è forse la chiave di tutta la resilienza e di tutta questa seconda parte sulla resilienza noi siamo portati per natura per un nostro istinto di sopravvivenza sempre a essere preparati al peggio se io ad esempio oggi non mi fossi presentato la lezione molti di voi avrebbero già automaticamente eccolo lì prima lezione il prof non si presenta cosa significa mi devo preoccupare forse salta il master forse non partirò a cascata e nel nostro istinto di sopravvivenza siamo programmatici così noi cerchiamo di focalizzarci sui pensieri negativi e di prepararci al peggio perché così diciamo così sopravviverò mi aspettavo il peggio quindi sono una botte di ferro quando dovremmo fare essenzialmente il contrario secondo me cioè se abbiamo presupposto all'inizio di questa lezione che siamo noi a decidere quanto un evento è negativo e positivo se abbiamo detto che se io decido di affrontare positivamente le mie emozioni e gli eventi starò meglio mentalmente starò meglio fisicamente riuscirò ad affrontare meglio le mie giornate a compiere i miei compiti in maniera più produttiva allora l'augurio per voi per il master per il corso che farete anche in una situazione come quella del covid è sempre quello banale ma reale di essere sempre positivi lì dove possibile la positività si realizza con questo veloce diagramma che il pensiero locale cioè concentrarsi sull'evento in sé non su tutte le dinamiche che portano a quell'evento il professor non si è presentato scusate eh poverina avrà avuto un imprevisto la lezione verrà recuperata domani short term al momento cosa è successo non andare a cascata con tutta una serie di considerazioni il più delle volte peraltro anche false prospettiva come abbiamo già visto anche nei confronti del disruptive thinking cercare di capire in maniera imparziale quello che è successo è la consapevolezza la consapevolezza che nessun evento è permanente e che anche la notizia più negativa in fausta per noi è solo una notizia sta a noi reagire con un pensiero forte ottimismo e positività e concludo il discorso sulla resilienza ricordandovi che nell'utilizzare il pensiero positivo nell'essere ottimisti e nel dire è un piccolo incidente di percorso o anzi non è neanche un incidente lo affronterò di non farvi tra virgolette ingannare da un fenomeno psicologico anche molto importante ci sono tanti video sui quali potreste documentarvi anche in rete sulla sindrome dell'impostore molti discorsi su questi TED per esempio su YouTube molto belli non entrate in questo circolo del è successo questo perché io non sono stato all'altezza molto spesso inconsapevolmente ci facciamo fregare da questa sindrome dell'impostore quindi pensiamo in entrambi i lati che sia gli eventi negativi che quelli positivi se sono negativi è colpa nostra e se sono positivi è perché abbiamo avuto fortuna è perché eravamo lì nel momento giusto essere positivi significa anche avere la consapevolezza quello che avete visto prima dei propri mezzi dei sacrifici che si sono fatti e quando raggiungete un obiettivo positivo celebratelo perché è giusto riconoscere che si è fatto un grande lavoro ed è giusto celebrarlo io mi fermo qui e vi chiedo scusa se magari ho fatto questo tour de force ma volevo appunto rispettare le tempistiche che mi hanno state date e ora ridò la parola a Giovanni e a Giulio nel caso in cui ci siano magari delle domande su queste tematiche che abbiamo trattato sì abbiamo parecchie domande allora diamo la precedenza a chi ha alzato la mano quindi abbiamo Ignazio vuole porre la sua domanda ho sbloccato il microfono ciao Ignazio buonasera ok ho sbloccato il microfono di Ignazio e andiamo avanti nel frattempo che riesce a parlare con noi allora leggiamo le domande ah ecco ecco Ignazio sì ho apprezzato la citazione su Michael Jordan che però comunque non sarebbe stato un bel collega al lavoro però volevo appunto rilanciare sulla domanda che aveva fatto un ragazzo prima Roberto e anche la mia sono stato io a chiedere se ci troviamo o in una di fronte a un collega poco capace cambiando un ottimo il setting comunque c'è sempre un collega poco capace che ha i suoi problemi ma magari è una persona intelligentissima però per motivo X non rende opinione condivisa e comunque consenso nel team e quindi sono tutti d'accordo che soprattutto alcune performance sono misurabili quindi ci troviamo di fronte a dati oggettivi non a mere opinioni e diciamo qui poi entra in gioco la percezione soggettiva del manager che anche lui può avere un bias cognitivo e soprattutto mi chiedo qualora appunto l'infrastruttura mancasse o comunque fosse anche l'infrastruttura stessa diciamo macchiata è fallace in quel caso la reazione diciamo che l'intelligenza emotiva è ok cercare di diciamo di escalate the situation e poi non so prendere fare una passeggiata respirare e pensarci dopo allora non mi sembra la soluzione per questo specifico caso allora ti dirò analizziamo analizziamo velocemente quello che hai detto quindi tu dici c'è un collega che ormai è risaputo in tutto il mondo che che non sia bravo il manager non se ne accorge continua a creare attriti e contrasti nell'azienda e quant'altro e tu mi dici non è secondo me una soluzione prendere una pausa e quant'altro e io posso farti la stessa domanda quindi secondo te la soluzione è aggredirlo verbalmente cioè che cosa ottiene invece no 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 non dico ah ok scusa la soluzione ma comunque magari c'è stato il ritardo sul report che magari parlo per me mi fa innervosire sì 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 piuttosto che prendermela con con l'individuo riporto questa situazione diciamo tuttavia questa sequenza non porta a un risultato proprio perché diciamo il sistema è fallace oppure non c'è un sistema ho capito ho capito e allora qua ti posso già ti posso già rispondere perché finalmente ho capito quello che intendevi il discorso dell'empatia quindi del controllarsi fare la pausa non è volto a trovare una soluzione al problema del collega inefficiente e su questo voglio essere chiaro perché la domanda è giusta è precisa e ha molto senso per me il tuo discorso cioè l'imparare a controllarsi ahimè non è la soluzione alla sua incapacità ma è solo un giovamento della tua condizione mi spiego meglio questo collega continua a crearti dei problemi e ormai ovviamente ti crea della rabbia se tu impari a pensare che ok io posso aggredirlo e cantargli la vita o come hai detto giustamente l'escalation che è un termine molto usato in ambito aziendale o riportare al mio manager con i miei colleghi che questo individuo purtroppo incide sulla nostra operatività e se mi dici anche ma il manager non è all'altezza nella mia azienda è capitato si salta normalmente di gerarchia e si contatta per esempio il director o il vice president e pur essendo viste sono spesso viste come persone non irraggiungibili o quant'altro e in realtà sono persone che come te e me hanno a cuore il business perché devono portare anche loro i risultati sono persone che ascoltano quindi se un gruppo di persone una class action dice abbiamo un costante problema con questo e il nostro manager purtroppo non lo sta risolvendo e noi non riusciamo più a lavorare in maniera efficiente va da sé che parte quel tipo di escalation che poi va ad analizzare il motivo e va ad individuare il difetto diciamo in questa catena di montaggio quindi stai pur certo tranquillo che il manager lo difenda o non se ne accorgo che lui sia abile a nasconderlo il procedimento viene corrotto l'errore emerge l'errore perpetuo crea rabbia nei clienti e quindi alla fine viene scoperto cioè non passa inosservato il discorso empatico serve a te quindi capire ok calma se la vedrà il mio manager se io qui entra anche un po' in ballo la resilienza quindi quel tipo di positive thing io faccio il mio e nell'istante in cui purtroppo il mio viene fallato dal mio collega e mi verrà chiesto perché dirò in grande onestà quello che è successo l'empatia quindi serve solo a te per calmarti e per non rovinarti una giornata su un evento che non è nemmeno facilmente controllabile dal tuo punto di vista perché è lui la causa della tua come dire della tua mancata felicità al lavoro capite quindi è giusto quello che dice io non vi ho detto non voglio veicolare il messaggio con l'empatia un dipendente poco produttivo improvvisamente ti apparirà produttivo no lui rimarrà improduttivo tu sarai meno arrabbiato e quindi avrai un miglioramento comunque della qualità della tua vita va bene va bene grazie grazie a te grazie ignazio do la presenza a stefano e poi leggiamo cinque domande o facciamo partecipare i ragazzi o facciamo partecipare i ragazzi stefano al microfono libero se riesci a parlare con noi ecco ciao mi sentite si ciao ciao purtroppo non riesco a scrivere non mi appare la box della chat quindi vabbè la faccio a voce innanzitutto vabbè mi fa piacere questa questa lezione perché in qualche modo mi ha un po' toccato a livello personale sul discorso della residenza vabbè penso che ormai ci ne siano parecchi di esempio il fatto stesso che io sono il primo che ho perso il lavoro un po' di mesi fa mi sono rimesso in gioco che ho detto ma se ricomincio faccio un percorso completamente diverso quello che mi aveva colpito nella prima parte della lezione sul discorso di gestire le emozioni eccetera mi chiedevo se è mai capitato un discorso del tipo che in qualità di responsabile si andava contro un po' quelli che fossero gli orientamenti dei supervisor ulteriormente gerarchici al tuo ruolo ti do del tuo ovviamente se posso a me è successo e questo mi ha comportato in prima battuta difficoltà perché gestire una visione alternativa a quella che mi permetteva di avere una coesione del team mi ha spiazzato ecco e quindi questo team building che ci dovrebbe essere ma purtroppo non c'è sempre nel mio caso è stato così prima di comunicarmi di licenziamento durante l'ora di lavoro tra l'altro quindi non c'è stato e quindi mi chiedevo molto spesso si tende più a impartire io preferisco più essere una guida che un capo ecco quello è il mio obiettivo finale allora è una bella tematica ci sarebbe tanto da dire anzitutto mi dispiace per la tua esperienza ma ricordati noi affrontiamo la percezione che abbiamo del licenziamento è la peggiore io personalmente concordo con chi dice che esistono solo due categorie dei lavoratori chi ha perso il lavoro e chi lo perderà in futuro il lavoro è dinamico cambia un giorno tu sei tranquillissimo il giorno successivo ti arriva un nuovo responsabile col quale non condividi le idee si creano attriti fa parte della vita quindi purtroppo non tutte le aziende sono perfette e qui mi ricollego anche a quello che vi ho detto all'inizio molto incide molto è fatto dal tuo manager dal tuo leader e dei valori che lui ha e che l'azienda perché a volte sottovalutiamo l'importanza dei valori anche aziendali ci sono aziende nelle quali il valore è azienda strutturata tu produci ricompensa tu non produci a casa e aziende invece che premono più sul lato team building facciamo conoscere le persone che lavorano organizziamo eventi tutti insieme dove i manager sanno dell'importanza di valutare e soprattutto di potenziare il capitale umano che hanno quindi se ti hanno licenziato ricordati sempre prima di tutto non sei tu che perdi loro sono loro che perdono te bisogna già cambiare il punto di vista e dire va bene perderete la mia expertise la mia buona volontà la mia voglia di fare e soprattutto se come hai già detto tu non condividevi la loro visione allora hai fatto benissimo ad andartene o comunque hanno fatto bene loro nei tuoi confronti a farti andare via perché non condividere gli ideali e l'ambiente di lavoro penso che sia una tortura dover affrontare otto ore al giorno di lavoro con un team in cui non c'è coesione non c'è empatia non sai cosa passano i tuoi colleghi forse nemmeno li conosci per me non ne vale la pena non ne vale la pena grazie a te ok io invito mi vedete sì invito Emanuela Maria Giada Maddalena e Raffaele ad alzare la mano e parlare con noi ecco Giada la prima ciao Giada mi sentite sì sì mi sentite allora buonasera io avevo chiesto una curiosità se esiste un test per noi studenti di Master Europei per capire quanto siamo empatici allora una buona domanda al momento non ho niente sotto mano ma posso cercare di reperire qualcosa purtroppo è una situazione un po' un po' particolare non stiamo nemmeno lavorando direttamente in ufficio quindi ho poco contatto con i colleghi del Recruiting e Talent Acquisition ma mi sembra mi sembra una domanda molto ragionevole e gli chiederò perché io non lavoro comunque col Dipartimento di Acquisizione delle nuove risorse se loro hanno dei test che possono proporre ai nuovi ad esempio ai nuovi assunti quindi farò del mio meglio per cercare per cercare di reperire del materiale sì sì no intendo proprio anche per noi corsisti per curiosità sì noi abbiamo dei test dei talenti delle personalità comunque questo può essere fatto ed è un'ottima idea può essere seguito questo progetto di comporre un test con la nostra piattaforma con le psicologhe del lavoro con Paola e con Carla e quindi riportare quindi magari Savino ci aiuta anche a reperire questo test e possiamo automatizzarlo era questo che intendevi Giada sì esattamente sì sì per i corsisti per curiosità per appunto vedere come abbiamo come stiamo già facendo per gli altri test appunto delle figure professionali che avevamo già fatto se esistessero appunto test simili per valutare l'empatia poi nel nostro caso potrebbe poi ovviamente servirci per il lavoro però ovviamente era per caso di studio qui interno diciamo per capire noi stessi come strumento aggiuntivo ecco ai test che abbiamo già fatto quindi sì avete risposto a questa domanda Giada in rispondo quindi io secondo me con un semplice test scritto impossibile valutare l'empatia è come dire valutiamo l'amore e quindi io prendo nota di questa tua richiesta e la trasferisco ai nostri psicologi in maniera che possano valutare la vostra empatia eventualmente misurarla secondo la loro scienza e coscienza e questa conoscenza a secondi colloqui perché infatti sono cose che si valuta a pelle Giada sei una ragazza quindi credo che mi stai capendo che cosa sto dicendo sì sì no infatti stavo pensando proprio a questo magari l'hanno già valutato durante i colloqui ecco e questo si può valutare stavo pensando a questo infatti si valuta ne abbiamo già fatto all'inizio tutti quanti sembrano empatici solo che stanno recitando una parte è solo un rapporto continuo che si può fare poi un report dell'empatia quindi dopo qualche mese che stiamo con voi riusciremo secondo me a darvi una risposta in scienza e coscienza da parte del team dei psicologi quindi prendiamo nota grazie per questo suggerimento Giada grazie e un'altra domanda non so se è stata già fatta perché a volte mi salta la linea siccome avevamo noi per esempio all'università un corso di sociologia dell'organizzazione avevamo parlato dello stile partecipativo di leadership in questo caso è corretto dire che chi adotta uno stile partecipativo di leadership è per natura portato all'empatia oppure cioè o più propenso magari ecco ad essere ovviamente più empatico e quindi più propenso all'ascolto dei collaboratori allora guarda io ti posso dire che per come la vedo io non c'è una una linea diretta cioè non puoi secondo me dire se sei empatico sarai leader se sei leader sei empatico è un presupposto è come se essere leader per me ti richiede quello strumento quindi non sempre dire ho fatto un corso per la gestione del team secondo me se ho capito la tua domanda significa sono un grande leader secondo me è meglio attrezzarsi dello strumento necessario vuoi essere un grande leader vuoi essere un manager devi lavorare sulla conoscenza di te e degli altri quindi io li vedo più come due entità correlate cioè se voglio fare una roba mi serve mi serve mi serve lo strumento così come per uno scrittore voglio scrivere un libro mi serve libro e penna e tutto il contesto delle sue conoscenze in materia per una persona che ha belleità manageriali secondo me certamente gli serve una conoscenza a livello di organizzazione del lavoro e altro però gli serve soprattutto lo strumento fondamentale che secondo me è comprendere e capire le persone visto che ci dovrà lavorare e visto che dovrà gestirle quindi non necessariamente io se dovessi tra virgolette decidere al tavolino di chiedere l'opinione dei miei collaboratori è per forza detto che io poi sia empatico giusto ho capito bene sì allora quello che cerco di trasmettere io anche con questa lezione è che bisogna come dire lavorarci su costantemente e non è un qualcosa che tu apprendi con un corso che ti può è un qualcosa che arriva dall'esperienza e dalla pratica continua poi già da forse non lo so se ho malinterpretato la tua domanda quello che semplicemente mi sento di dire è che si impara praticandola è che non è un qualcosa che puoi facilmente apprendere da un corso strutturato o da i corsi ti aiutano chiaro però è più come dire una capacità di mettersi in gioco e di comprendere che le persone hanno delle esigenze e tu devi essere in grado di ascoltarle ho capito va bene grazie grazie a te continuiamo con Maddalena che ha una una riflessione e vuole portare un esempio pratico della sua esperienza facciamo parlare Maddalena ha il microfono libero e salutiamo buonasera a tutti come siete stiamo Maddalena auguri ancora per ieri di compleanno auguri grazie grazie mille intanto buonasera e grazie per la per la lezione e io volevo fare una considerazione riportare un esempio personale a proposito dell'intelligenza emotiva perché secondo me questa è una capacità non solo in un certo senso passiva passatemi il termine ma anche proattiva nel senso che secondo me l'intelligenza emotiva è anche quella capacità di saper individuare delle potenziali situazioni di stress e prevenirle e in questo mi aggancio il mio esempio personale perché io per esempio ho cominciato a lavorare due mesi fa in un'azienda di marketing e ho cominciato direttamente smart working non avendo ricevuto formazione in un periodo particolare tra l'altro che era quello del Black Friday e Natale il team dei miei colleghi era un team già bello formato di persone che si conoscevano già da tempo e quindi diciamo molto omologato quindi diciamo la difficoltà che io ho avuto chiaramente è stata quella di non avere le competenze necessarie un po' quel collega deficitario di cui discutevamo prima quindi per esempio la mia applicazione se così vogliamo chiamarla dell'intelligenza emotiva in questo contesto è stato quello di diciamo dare delle giustificazioni ai miei colleghi nel momento in cui chiedevo il loro aiuto o non riuscivo a rispettare una deadline oppure avevo una particolare esigenza cioè un modo di far capire all'altro qual era il problema senza aspettare che si innescassero diciamo fraintendimenti o malintesi o magari è stato anche quello di svolgere delle lavorazioni o dei lavori che io ero già in grado di svolgerli come ricambio per il favore fattomi su altre su altri fronti e su altri versanti e quindi devo dire la verità con loro io mi sono integrata benissimo e non ho avuto alcun tipo di problema quindi a volte siccome siamo tutti un po' no? quei dipendenti deficitari di competenze perlomeno all'inizio in una realtà lavorativa secondo me per evitare problemi è anche utile necessario ecco interagire con il team e spiegare le difficoltà e far comprendere che comunque sia in fase di apprendimento su tante cose quindi semplicemente questo volevo dire rispetto a questo argomento assolutamente d'accordo al cento per mille perché hai dimostrato semplicemente di avere un altro livello di empatia cioè quando vi dicevo all'inizio le persone con empatia emergono perché? perché è una persona che è in grado di esprimere le proprie esigenze i propri bisogni una persona che verrà aiutata dai suoi colleghi quindi come nel tuo caso quando hai affrontato una situazione nella quale hai ricevuto purtroppo uno scarso training un training deficitario su quelle che erano le tue mansioni sei stata in grado di comunicare alle persone con le quali lavoravi le tue esigenze anche le tue mancanze onestamente e loro ti hanno aiutato di buon cuore diverso invece da una persona che magari reagisce dicendo non lo so fare non mi disturbare sto male sto in ansia sto in stress perché non riesco e quant'altro e alla fine lascio io ho avuto molte esperienze di lavoro che avrei dovuto ho potuto abbandonare dopo poco tempo scarso training scarsa formazione ho resistito testa bassa facendomi aiutare dai colleghi dimostrandogli che avessi realmente quell'esigenza come tu hai giustamente detto e ho mantenuto il posto tra virgolette sono cresciuto quindi assolutamente d'accordissimo che la capacità di comunicare proattivamente attivamente anche le proprie emozioni è cardine per una persona che ha una buona empatia grazie buona serata grazie a te grazie maddalena buona serata andiamo con Emanuela che ci parla che ci fa una domanda sull'ambiente tossico si è liberato il microfono Emanuela? sì buonasera buonasera grazie per l'interessante lezione salve prof io l'avevo scritta la domanda praticamente siccome io ho cambiato tanti lavori ci sono dei problemi credo all'audio dei problemi di audio quindi ti leggo quello che ha scritto Emanuela dice professore secondo lì l'intelligenza emotiva si riesce ad applicare allo stesso modo in un ambiente un po' tra virgolette tossico? no e questo è questa è una domanda che purtroppo stavo aspettando e sulla quale devo essere molto 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 onesto con voi ed è qui che si vede anche la differenza non solo diciamo del bravo manager ma anche del bravo recruiter quindi della persona che sa a volte basta una sola persona con una forte carica negativa quindi con una serie di ecco quelle che io temo di più sono le persone con il profilo passivo aggressivo una sola persona di queste può purtroppo contaminare tutto il team perché perché è vero che in un team ci sono persone molto empatiche che possono capire ok io so perché questa persona reagisce così e so perché o come affrontarla ma è anche vero che purtroppo non tutti hanno gli stessi livelli di empatia quindi ci sono persone magari invece più inclini allo scontro e a come dire a trovare subito su chi puntare il dito e creare contrasti magari anche in buona fede nel senso che l'altra persona quella scorretta e può essere veramente un problema quindi la risposta è sì e no cioè la risposta è se tutti avessero empatia contemporaneamente l'ambiente sarebbe sano per esperienza ti posso dire che purtroppo ci sono dei contesti lavorativi talmente tanto tossici che l'unica situazione in molti casi è proprio quello di allontanare la risorsa tossica quando dico allontanare e ovviamente dopo si fanno delle schede sono delle schede diciamo di miglioramento sono i cosiddetti improvement plans per vedere se la persona riesce in un certo qual modo a migliorare sugli aspetti deficitari perché comunque siamo persone non si caccia nessuno così soltanto perché è antipatico e per esperienza ti dirò che molto spesso è l'unica soluzione perché contamina tutto il team e può diventare un problema prof sì scusi mi era caduta la linea ho ascoltato quasi tutto il discorso sì nel senso intendiamo un ambiente tossico in cui circolano informazioni irritate di nuovo non sento ok Emanuele ha dei problemi di connessione oggi passiamo a Maria Raffaele Graziana Emanuela ci scrive grazie prof avevo perso la linea scusate è ora grazie a te comunque grazie Emanuela Maria Maria vuole parlare vuole leggerci la sua domanda libero il microfono Maria teniamo qualche seconda ancora per la Maria il tempo di liberare il microfono sì buonasera a tutti buonasera buonasera professore Princi Galli volevo fare una domanda ma l'intelligenza emotiva ovvero l'empatia può coesistere con il cosiddetto quoziente intellettivo o una esclude l'altra questa domanda è un'altra delle mie preferite quindi ti ringrazio per avermela posta assolutamente una non esclude l'altra nel senso che lo stereotipo c'è è presente ed è marcato nella nostra cultura come penso a livello mondiale il fatto che una persona di grande impronta logico-analitica sia poco incline diciamo all'ambiente sociale a ciò che lo circonda per fortuna ti possa garantire che è uno stereotipo perché è uno stereotipo perché come detto il cosiddetto intellettivo è difficile migliorarlo in maniera esponenziale o in maniera rapida per fortuna l'empatia si può migliorare quindi anche una persona normalmente magari chiusa o meno incline nel giusto contesto con le giuste motivazioni ed esposta come dire al giusto stimolo esterno può sicuramente migliorare è un processo lungo non è un processo da film che magari in uno o due mesi la persona improvvisamente diventa il principe delle comunicazioni di gruppo e quant'altro è un processo lungo ma assolutamente nella mia vita come penso nella tua in quella di tutti noi abbiamo trovato tante persone veramente brillanti e geniali al tempo stesso simpatiche comunicative aperte e quant'altro quindi fortunatamente è solo uno stereotipo e le due non incidono c'è questa idea di fondo magari in parte è vera nel senso che l'esperienza ci porta anche sicuramente ad aver trovato persone simili però per fortuna no io credo personalmente che non sia vero grazie grazie a te continuiamo continuiamo quindi leggiamo la domanda di Raffaele se vuole parlare Raffaele può alzare la mano sì infatti quindi durante il colloquio di lavoro per l'attuale compagnia con cui lavoro ricordo che il team manager affiancava il recruiter e fu lui a pormi la seguente domanda due punti perché vorresti cominciare a lavorare da noi e dove ti vedi tra qualche anno io risposi perché ho intenzione di crescere personalmente e professionalmente con voi e mi vedo molto probabilmente al suo posto tra qualche anno riferito lui sorrisse lui sorrisse e il giorno dopo mi fecero firmare il contratto il prof ha proprio ragione mi ha fatto piacere ricordare e condividere questa cosa è una bellissima risposta hai avuto due attributi notevoli nel fare una nel dargli una risposta del genere e sono molto contento che ti sia andata bene sai perché perché significa anche che hai hai un manager attualmente un team leader che comunque è riuscito ad andare oltre a vedere in quella battuta una persona simpatica aperta e assolutamente non paurosa e non timorosa del confronto quindi sono molto contento di questo esempio io forse avrei fatto lo stesso ed è un bel modo perché ripeto dai l'idea di non essere lì con il tuo programma imparato a memoria ok mi piace questo perché voglio fare il manager dai la sensazione di essere unico nel tuo genere e imparare a sorridere in un ambiente così teso come può essere quello di un colloquio di lavoro è una dote una dote grandiosa quindi complimenti per il colloquio e per l'esito ok procediamo con Graziana che ci chiede anche se esistono dei test per valutare l'intelligenza emotiva e la competenza emotiva in cui rientra l'empatia e poi ci chiede se vengono somministrati questi dagli psicologi allora questo non lo so perché ovviamente siamo in una branchia che non è la mia quella della appunto della psicologia e quindi come ha detto il professor Giovanni lascio come dire a chi di competenza nell'ambito di questo so che appunto è una è basata molto sul colloquio è basata molto su una misurazione diciamo più come dire pratica ed empirica però mi sembra che il caso sia stato già riportato e che sicuramente poi il master cercherà di di scandagliare questa guarda io chiederei a Carla che ha fatto esperienza professionale quindi in questo ruolo quindi se vuole intervenire Carla ha il microfono che può attivare e rispondere alla domanda di Graziana se vuoi la rilegge Giulio me la puoi riportare sì grazie Giulio mi senti? sì sì sto cercando la domanda in pratica Carla questa studentessa anche un altro studente chiedono se esistono dei test che misurano l'empatia e poi ok ok sì sì se misurano l'intelligenza emotiva quindi vedo una connessione tra empatia e intelligenza emotiva ci sono delle metriche nella psicologia ufficiale dei test per poter valutare questo tipo di intelligenza o la qualità dell'empatia? sì allora io ho fatto la mia tesi triennale tra l'altro sull'intelligenza emotiva e ho studiato tutto allora c'è uno specifico autore che si chiama Goleman che è uno studioso un autore americano che ha fatto degli studi specifici sull'intelligenza emotiva ha scritto proprio dei libri lavorare con intelligenza emotiva la leadership di intelligenza emotiva e lui proprio ha strutturato nello specifico sia test qualitativi che quantitativi cioè sia delle interviste strutturate sia appunto test risposta multipla con la quale appunto si valutavano soprattutto le capacità empatiche ed l'intelligenza emotiva per diventare leader e manager quindi sì ci sono assolutamente posso anche poi indicare i libri dove trovare questi test se sono interessati ragazzi grazie grazie e mi senti carla ora si prima ora ora c'è sì prima no volevo chiederti visto che ce lo chiedono gli studenti possiamo sommistrare alcuni test dell'intelligenza emotiva certo sì assolutamente io ho tutti i test perché ripeto durante la triennale ho utilizzato tutti questi dati li ho somministrati a persone in realtà dirigenti insomma diverse figure all'interno del contesti lavorativi ma possono essere insomma somministrati anche persone che stanno incominciando ovviamente ad affacciarsi al mondo lavorativo però ecco che sia chiaro intelligenza emotiva sempre relativa al contesto professionale lavorativo quindi non valutano nello specifico un'intelligenza emotiva empatica personale ma soprattutto le capacità empatiche ed emotive di gestire un team questa è la finalità dei test di goleman ok sembra che l'ultima domanda venga da cristian che invito a parlare con noi e dice l'indice di turnover di una determinata azienda può essere già un indicatore del livello di benessere emotivo dei dipendenti decisamente sì perché un alto turnover allora il discorso è molto complesso ne parleremo durante le lezioni del corso di human resources però in generale un alto turnover implica alcune problematiche che possono essere problematiche per fortuna nella maggior parte dei casi strutturali cioè l'azienda è vista solo come un trampolino di lancio quindi il dipendente normalmente fa i suoi sei mesi sette mesi otto mesi e poi va subito prende quelle competenze e le utilizza perché l'azienda stessa vuole personale come dire di base o purtroppo ci possono essere altre dinamiche sotto come un ambiente fortemente tossico un ambiente gestito in cattiva maniera che pian piano inizia a perdere colpi finché come vi ho detto già prima non viene a galla e non vengono poste delle soluzioni diciamo dall'alto il turnover è certamente un indicatore non necessariamente così negativo come sembra perché come vi ho detto può essere il caso di un'azienda che prende soprattutto entry level quindi una persona che dopo un anno ha raggiunto le conoscenze necessarie per fare quel lavoro chiaramente lo lascerà per proseguire quindi non è negativo in quel caso negativo soltanto se eventualmente il lavoro è stressante mal gestito e quindi le persone ecco più che l'indice di turnover il tempo di permanenza del dipendente dell'azienda è fondamentale se un dipendente va via dopo due mesi questo si ripete spesso è chiaramente un'azienda da scartare se i dipendenti vanno via dopo un anno soprattutto con la dinamicità del lavoro qui in polonia specialmente direi che è quasi più che normale posso aggiungere una cosa questa domanda sì io insomma lavorando anche in contesti più italiani pro multinazionali pro in italia a bari nello specifico in realtà era molto valutato anche l'assenteismo la percentuale di assenteismo infatti molte volte le aziende devono mandare anche dei report all'ins all'ina e sulla percentuale appunto come diceva ecco turnover sicuramente ma anche tutto l'assenteismo le malattie la quantità di persone ecco che hanno preso malattia e tutto quanto quindi questo era anche una valutazione poi effettivamente del benessere all'interno dell'azienda ci sono proprio dei report specifici che vengono fatti poi ogni anno certo 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 il nuovo è qua inteso soprattutto come nuovi new hires e termination quindi chi entra e chi va poi all'interno dell'azienda ci sono delle serve che vengono date costantemente mensilmente ci sono delle reportistiche sulle assenze sul tipo di assenza che viene fatto ci sono dei test per i manager e i manager stessi alcuni io per fortuna lo avevo soltanto in un'azienda ed era abbastanza stressante alcuni manager hanno come obiettivo l'attrition rate cioè essere in grado di dimostrare che hanno perso solo due o tre persone nel team quindi un manager che ha un alto livello di attrition è un manager che già viene inquadrato come una personalità da tenere un po a bada capire perché le persone nel suo dipartimento vanno via cosa sta succedendo è difficile il lavoro o non è in grado lui di tenerle quindi ecco come giustamente è stato detto ci sono tanti fattori il turnover è uno ma non lo utilizzerei istantaneamente per dire è un posto da scartare o è un posto invece in cui lavorare le dinamiche interne possono essere molto molto diverse ok christian dice tutto chiaro grazie per le delucidazioni grazie a te quindi abbiamo altre domande potete scrivere o alzare la mano ok sembra sembra che abbiamo finito quindi lascio la parola a savino al prof princigalli al prof bianco per i titoli di coda saluti ragazzi io sulla base di quello che vi ho detto vi voglio tutti super iper mega entusiasti per questa esperienza io l'ho fatta prima di voi come studenti dieci anni fa quindi positivi forti empatici nel capire i vostri colleghi tutte le persone che conoscerete durante questo bellissimo viaggio io vi aspetto volente o nolente non vedo l'ora qui a varsavia e che altro dirvi vi aspetto ovviamente numerosi anche per le lezioni in risorse umane dove andremo parlare un po più di di quello di cui mi occupo oggi attualmente ringrazio lo stati master europei il professor giovanni giulio cristiano andrea tutti per avermi concesso l'onore di iniziare con voi sono certo che farete un grande un grandissimo lavoro felice di aiutare master europei anche quest'anno e che dirvi un abbraccio come dicono in polonia doviziena a presto prof il microfono spento non ti sento proprio non la sentiamo proprio quindi un doviziena stavo dicendo a tutti quanti a savino a tutti i nostri carissimi studenti vi aspettiamo al prossimo appuntamento il 5 febbraio all'ore 18 prima lezione con we jobs segue il webinar in cui vi illustriamo tutto il calendario del primo mese siete stati in 80 oggi siamo davvero contentissimi siamo tutti entusiasmo in entusiasmo noi cerchiamo di trasmetterlo a voi arrivederci doviziena